E' uscito il libro di memorie di Britney Spears Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati su questi schermi Chi semina vento raccoglie tempeste e la famiglia di Britney oggi sta raccogliendo tempeste, uragani, terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche, invasioni di cavallette, epidemie zombie, clonazione massiva di Kanye West e altre temibili calamità naturali La Britney Spears saga sembrava essere giunta alla sua conclusione con la fine della conservatorship seguita dal matrimonio da fiaba tra Britney e Sam Ashgari Così tanto da fiaba che secondo alcuni non sarebbe proprio mai esistito Ma purtroppo dopo il viscero felici e contenti c'è stato un sequel infelice Il divorzio, fine della fiaba E poi ragazzi c'è il suo libro Il libro che sta facendo tremare il popò a tutta la famiglia Spears Nonché a tutti gli ex fidanzati di Britney, tutti gli ex mariti di Britney Questo libro ha sollevato più polemiche di quante non ne abbia sollevate la Bibbia negli ultimi 1500 anni Ma non perdiamoci in preamboli perché abbiamo veramente tantissimo di cui parlare oggi Ci dobbiamo un pochettino aggiornare Quindi cominciamo, bentornati nella Britney Spears saga capitolo 5 Tutto comincia quando Britney viene avvistata alle Hawaii senza Sam e senza la sua fede nuziale Il panico si diffonde tra i fan Dov'è Sam? Dove diavolo è? Perché non è con Britney? Ma la cosa più sospetta è che Britney sia in compagnia del suo manager Ovvero lui, Cade Hudson Che vabbè ci sta anche andare in vacanza con il tuo manager se è anche un tuo amico Un po' meno ci sta a tuercargli sul pacco forse Cioè, pochi giorni dopo anche Sam Ashgari viene avvistato senza la fede nuziale Ecco qua Sui social si inizia a mormorare che i due si stiano lasciando E l'atmosfera per Sam Ashgari inizia a farsi spiacevole Perché ragazzi la situazione è questa Fin dal primo giorno della loro relazione I fan di Britney stanno tenendo attentamente d'occhio Sam Ashgari In attesa che faccia un passo falso Perché molti sospettano che Sam voglia solo sfruttare la popolarità di Britney Spears Per ottenere visibilità Infatti lui, sì, va bene, è un personal trainer di base Ma è anche un ballerino, un modello Ha recitato nei videoclip di Britney Tanto è vero che è così che si sono conosciuti Quindi si destreggia nel mondo dello spettacolo Cioè ci prova quantomeno a entrare a far parte del mondo dello spettacolo Di conseguenza Sam ha vissuto ogni giorno della sua relazione con Britney Spears Sapendo che se voleva l'approvazione dei fan di Britney Doveva sempre dimostrare al pubblico di non essere l'ennesimo parassita Nella vita di questa donna E bisogna dire ragazzi che fino a questo punto Sam se l'è portata bene secondo me Cioè ha sopportato con pazienza tutta questa sfiducia E anzi di solito, cioè molte volte ha dato ragione ai fan di Britney Per essere così sfiduciati nei suoi confronti Ha sempre sostenuto pubblicamente la moglie nelle sue battaglie contro il padre L'ha sempre difesa dagli attacchi mediatici Ma a questo punto, dato che non indossa la fede Ci si comincia ad allarmare Così Sam decide di prendere in mano la situazione E rispondere alle domande dei fan E lo fa tramite un portavoce Il portavoce smentisce categoricamente l'esistenza di qualsiasi problema tra lui e Britney I due sposini stanno ancora insieme felicemente Non c'è nessun divorzio in vista Sono solo maldicenze E perché allora Sam non indossa la fede? Perché attualmente a detta sua sarebbe impegnato nelle riprese di un film Motivo tra l'altro per cui non è andato in vacanza con Britney e Cade alle Hawaii Bene, sorge spontanea una domanda Anche Britney sta girando un film Visto che anche lei non indossa la fede Boh, in ogni caso a detta di Sam con sua moglie sarebbe tutto a posto Quindi ok Solo qualche settimana dopo TMZ rilascia un'inchiesta In base alla quale Britney e Sam starebbero per divorziare E fino a qui Vabbè Dispiace Però sono cose che capitano Cioè nessuno si aspetta che un matrimonio a Hollywood duri più di un anno Tuttavia secondo TMZ le ragioni dietro questa rottura tra Britney e Sam sarebbero estremamente serie e gravi Gravi ragazzi che non ve lo aspettate Infatti secondo TMZ le cose sarebbero andate in questo modo Un giorno Sam avrebbe letto un pettegolezzo in base al quale Britney lo avrebbe tradito Così avrebbe deciso di affrontare la questione chiedendo spiegazioni direttamente alla moglie Britney è vero che mi hai tradito Britney però non avrebbe digerito l'accusa e l'avrebbe menato Sì esatto avete sentito bene ragazzi L'avrebbe menato In seguito dopo che Britney avrebbe picchiato Sam I due avrebbero litigato sempre più spesso E puntualmente Britney gli avrebbe urlato in faccia E gliele avrebbe date di santa ragione Tutto ciò secondo fonti non meglio specificate Ora so cosa state pensando Ah ma Britney è alta 1,63 m mentre Sam Ashgari è un personal trainer alto 1,88 m di muscoli Che sembrano anche particolarmente duri Eppure ragazzi lo sappiamo che non è impossibile Se Britney dovesse diventare violenta con Sam Lui potrebbe non reagire proprio perché non vorrebbe magari mandarla in rianimazione con una sberla E perché magari fa parte della sua morale non alzare le mani alle donne O addirittura non alzare le mani proprio a nessuno Per questo potrebbe accollarsi le percoste Cioè pensiamo a Johnny Depp e Amber Heard Anche attraverso la loro storia abbiamo visto come in una coppia la violenza non sia una questione di forza Ma una questione di potere Un potere che uno dei due esercita sull'altro Quindi la vera domanda qui è Chi è che detiene il potere in casa Spears Ashgari? Se questa è una relazione tossica Chi è la personalità dominante? Noi questo fino a questo punto della storia non lo sappiamo E ragazzi fino ad oggi né Britney né Sam Ashgari hanno mai confermato o smentito tutte queste voci Ci sarebbero però delle foto che supportano la teoria in base alla quale Britney sarebbe violenta con Sam Questa foto ritrae Sam Ashgari con un occhio nero In quest'altra foto lo vediamo con il braccio segnato da quello che sembrerebbe essere il segno di un morso In vari scatti risalenti a questo periodo ovvero inizio 2023 Sam ha effettivamente l'aria di uno che le ha prese fortissimo Ma torniamo all'inchiesta di TMZ perché non finisce qui Infatti sempre secondo queste fantomatiche voci Britney nell'ultimo periodo sarebbe diventata così tanto paranoica Attenzione ragazzi da disseminare coltelli in tutta la casa compresa la camera da letto Temendo un rapimento Quindi in pratica a casa di Britney e Sam ci sarebbero coltelli ovunque Sui ripiani della cucina, sui comodini, ovunque Questa cosa inquietante avrebbe convinto Sam a chiedere il divorzio Perché ok capisco che tu sia traumatizzata Ma qua mi traumatizzo io È una vita pericolosa questa Metti che torno tardi a casa e ti sembro un ladro Cosa fai? Mi affetto Se ci mettiamo anche che Britney diventa aggressiva durante le liti Cioè mi pare anche giusto che Sam se la sia data a gambe Immaginate di stare con una persona Che vi mena quando si arrabbia E comunque mentre vi menate ci sono coltelli sparsi per casa Non è una situazione ideale Ovviamente queste ragazzi sono sempre voci Sempre secondo queste voci Sam si sarebbe già trasferito in un'altra casa Perché si caca sotto giustamente E quindi i due Sam e Britney Spears Non vivrebbero più insieme Ora ragazzi Io di base non credo molto a TMZ Perché tutto mi fa pensare che abbiano un problema personale con Britney Spears Cioè loro la dipingono sempre male È un vizio Ricordate quando una volta terminata la conservatorship TMZ ha pubblicato un video di Britney Scrivendo nel titolo dell'articolo Tipo sta girando questo video di Britney Spears In cui la pop star Urla contro qualcuno al ristorante Fuori di sé È impazzita E vi ricordate che invece bastava aprire il video Per scoprire che Britney fosse tranquillissima E che anzi Cercasse di nascondersi Da chi la firmava in modo molesto Ecco TMZ è questo tipo di giornale Ma in questo caso Vi devo dire che qualche dubbio mi è venuto Sono onesta ragazzi Cioè io amo Britney Sono sempre stata dalla sua parte Sono felice che sia finalmente libera Ovviamente Ma il dubbio che sia pericolosamente ossessionata dai coltelli Comincio ad averlo Perché qua i coltelli stanno diventando un leitmotiv Nelle accuse contro di lei Ve lo ricordate l'aneddoto raccontato dalla sorella di Britney Jamie Lynn nel suo rotolo di carta igienica stampato al tresiddetto libro Vi rinfresco la memoria Un giorno dal nulla Britney le avrebbe detto Jamie Lynn Ho paura Avrebbe preso un coltello da cucina L'avrebbe trascinata nella sua stanzetta E avrebbe chiuso la porta Con loro due dentro Mentre teneva sto coltellazzo in mano Britney al che avrebbe messo il coltello Dentro un cassetto del comodino di Jamie Lynn Il tutto però continuando a ripeterle Jamie Lynn ho paura Alla fine di questa scena horror Britney ha preteso che Jamie Lynn dormisse con lei Perché aveva paura Pochi giorni dopo però Dice Jamie Lynn Britney se n'è tornata alla sua vita Come se non fosse successo niente Come se non bastasse ragazzi Solo qualche settimana fa Britney ha pubblicato sul proprio profilo Instagram Questo video che ha turbato l'internet Nel video la vediamo danzare serenamente con due coltelli Mentre Balla ai suoi cani le si avvicinano Sembrano preoccupati per lei E alla fine del video Britney fa battere le lame l'una contro l'altra Terrorizzando i poveri cani che scappano senza vergogna Cioè A questo punto i fan chiamano la polizia Così per l'ennesima volta degli agenti di polizia Bussano alla porta di Britney Ed entrano per verificare che sia tutto a posto Gli agenti confermano che Britney stia bene Nonostante la cantante a quanto pare si sarebbe rifiutata Categoricamente di parlare con loro E niente Britney a questo punto si incazza E scrive su Instagram So di aver spaventato tutti con l'ultimo post Ma questi sono coltelli finti che il mio team ha noleggiato Questi non sono coltelli veri Nessuno deve preoccuparsi o chiamare la polizia Sto cercando di imitare una delle mie performer preferite Shakira Una performance che mi ha ispirato Britney si riferisce a questa performance di Shakira In cui la cantante si è esibita ballando appunto con due coltelli In ogni caso secondo quanto dichiarato da Britney Spears Questi coltelli sarebbero semplicemente finti Ed effettivamente anche nella didascalia sotto al video Lei lo aveva precisato che fossero giocattoli per Halloween E infatti ragazzi era periodo di Halloween Ho dimenticato di specificare questo dettaglio Che è un dettaglio importante C'è un dettaglio che fa la differenza Perché una cosa è giocare con i coltelli in un qualsiasi periodo dell'anno Un'altra cosa è farlo a ridosso di Halloween Quando tutti più o meno postano contenuti più creepy Ma in realtà ragazzi molte persone non ci credono Che sti coltellazzi fossero finti Perché? Perché il suono delle lame che si scontrano nel video Non richiama quello di due oggetti di plastica Che sbattono l'uno contro l'altro Sembra più un suono tipo quello di due spade Che lottano all'ultimo sangue Ad ogni modo la presenza ricorrente di coltelli Negli aneddoti che riguardano Britney Inizia a sollevare qualche preoccupazione Quindi facciamo un recap Secondo TMZ Britney e Sam starebbero divorziando Sam se ne sarebbe già andato di casa E questo perché Britney era violenta con lui Passa qualche giorno e Britney e Sam Postano entrambi foto di loro due insieme su Instagram Lui scrive a Britney Un anno sposato con la donna dei miei sogni Buon anniversario amore mio Vaffanculo TMZ Da questo momento in poi E siamo più o meno nella prima metà del 2023 Britney inizia piano piano A ritrovare un equilibrio Con tutti quelli che aveva precedentemente sfanculato A partire dalla sua famiglia Ebbene sì perché Britney non vede sua madre Lynn Da tre anni A dicembre 2022 L'aveva praticamente supplicata di fare pace con lei Scrivendo su Instagram Questo post Durante un viaggio in Messico Mamma e papà Ho attraversato il confine E ce l'ho fatta Dopo 15 anni senza caffè Mamma possiamo andare a prendere un caffè insieme adesso Sono trattata come un'eguale Prendiamo un caffè e ne parliamo Cinque mesi dopo Britney scrive su Instagram La mia dolce mamma è apparsa alla mia porta ieri dopo tre anni È passato così tanto tempo Ma guarda Dopo cinque mesi dalla tua supplica di prendere un caffè insieme a lei Era meglio se tua madre non si presentava proprio secondo me Cioè della serie è da tanto che non ci sentiamo A questo punto continuiamo così Vabbè Britney è in app in questo periodo Sembra completamente in pace con i suoi figli E un giorno piglia e va a trovare la sua odiata sorellina Jamie Lynn La va a trovare sul set Per poi scrivere su Instagram È stato bello visitare mia sorella sul set La scorsa settimana Mi siete mancati così tanto Vabbè io sono sempre più convinta che Britney abbia il disturbo bipolare Altrimenti non me lo riesco a spiegare Come possa dire a sua madre e suo padre Che vuole fare pace con loro dopo tutto quello che le hanno fatto Né come possa andare felicemente a trovare sua sorella sul set Come se questa non avesse scritto un libro In cui la descrive come una pazza Giustificando 13 anni di abusi del padre nei suoi confronti È chiaro che Britney non sia del tutto lucida Cioè secondo me qui lei è nella fase di umore euforico E la vita le sembra bella, rosia e glitterata Ma non penso che durerà a lungo questa cosa Perché la sua famiglia non è né bella né rosea Né francamente merita questi elogi da parte sua Cioè la sua famiglia merita il carcere secondo me Ma vabbè comunque Sembra che tutto proceda nella giusta direzione in questo periodo Purtroppo però Ancora una volta Improvvisamente Gli eventi prendono una piega Sfavorevole per Britney Nel luglio 2023 nei San Antonio Sports Una squadra di pallacanestro fa il suo ingresso un nuovo membro Victor Webayama Una sera Britney si trova presso l'hotel Aria di Las Vegas Si sta recando al ristorante dell'hotel Il Catch Quando improvvisamente nota proprio Victor Webayama Decide quindi di avvicinarsi a lui e chiedergli un selfie Britney Spears Va a chiedere un selfie a questo giocatore di basket Britney corre verso di lui Gli picchietta la spalla Ma a questo punto la guardia del corpo di Victor Reagisce dandole uno schiaffo in faccia Tanto forte da farle cadere gli occhiali da sole Immagina che Britney Spears venga a chiederti un selfie E tu invece di metterti a piangere per l'emozione La snobbi, la ignori e lasci pure che la tua guardia del corpo la schiaffeggi Complimenti per non sapere stare al mondo Ora quando la notizia si è saputa Victor ha provato a difendersi Come? Raccontando una balla Cioè lui dice mi era stato consigliato di non interagire con i fan E questa donna che io non avevo neanche riconosciuto Cioè non avevo visto che fosse Britney Spears Mi ha afferrato con forza da dietro Scatenando così l'intervento della mia guardia del corpo Purtroppo per Victor c'è un video che prova il contrario Victor ho un video per te Nel video vediamo Britney che corre verso Victor per raggiungerlo Con appena un leggero tocco alla spalla Britney cerca umilmente di richiamare la sua attenzione Quando all'improvviso la guardia del corpo si volta e le sferra Uno schiaffo in faccia Intorno si sente qualcuno che esclama Ma è Britney Spears! Successivamente con voce rotta Britney urla una frase che è diventata ormai iconica Cioè urla a Victor e al suo team Una frase precedentemente pronunciata da Britney Prima della conservatorship Quando ingiustamente attaccata da un giornalista in televisione Che la accusava di essere una madre negligente Lei si era messa a piangere Dicendogli appunto That's America for you Ne abbiamo parlato nel primo capitolo A questo punto Britney urla a Victor e al suo team In seguito a questo avvenimento Sam Ashgari pubblica su Instagram delle stories in cui difende Britney Spears Manifestando tutta la sua indignazione Scrive infatti Sam Sono contrario alla violenza in qualsiasi forma Specialmente senza giustificazione in difesa di se stessi o di qualcun altro che non è in grado di difendersi Spero che l'uomo in questione impari una lezione e modifichi il suo comportamento sprezzante verso le donne Non riesco a immaginare uno scenario in cui una fan disarmata Che mostra qualsiasi tipo di apprezzamento per una celebrità La potrebbe portare a essere aggredita fisicamente Comunque in ultima istanza Britney denuncia il bodyguard per aggressione Ma la denuncia cade nel vuoto Perché dalle telecamere di videosorveglianza emerge che La guardia del corpo non l'abbia fatto apposta a colpire Britney in faccia Appare infatti che volesse solo spingerle via la mano dalla spalla di Victor Ma che così facendo abbia dato involontariamente un colpo di mano in faccia a Britney Questo quantomeno è ciò che dice la relazione finale delle forze dell'ordine È stato un incidente Compaio dal futuro solo per dire che non me ne frega niente della relazione delle forze dell'ordine O meglio per carità poniamo il caso che sia vero Che la guardia del corpo abbia colpito Britney facendole male per sbaglio Ma i tuoi genitori te l'avranno insegnata l'educazione Cioè fermati un attimo chiedile scusa chiedile se sta bene se è tutto ok Non è che dopo averle dato una sberla in faccia Dici vabbè sopravvivrà e te ne vai Cioè ma Io Dai Pochi giorni dopo improvvisamente Sam pubblica su Instagram questa storia Dopo sei anni di amore e impegno reciproco Io e mia moglie abbiamo deciso di terminare il nostro viaggio insieme Ci aggrapperemo all'amore e al rispetto che abbiamo l'uno per l'altra e le auguro sempre il meglio Succede Quindi sì in altre parole Sam e Britney divorziano Presa male Cioè io non ero pronta ad affrontare questo terzo divorzio di Britney Dopo sei anni di fidanzamento di cui solamente 14 mesi di matrimonio Britney Spears e Sam Ashgari prendono la drammatica decisione di separarsi Tuttavia Sam nella sua storia non si preoccupa di confermare né smentire le voci di violenza domestica da parte di Britney Never complain never explain A questo punto tocca a Britney fare il suo annuncio e lo fa a modo suo Ovvero postando su Instagram un video in cui balla Scrive nella didascalia Come tutti sanno io e Esam non stiamo più insieme Sei anni sono un lungo periodo per stare con qualcuno quindi sono un po' scioccata ma Non sono qui per spiegare il perché perché onestamente non è affare di nessuno Ma non potevo sopportare più il dolore onestamente Ho fatto finta di essere forte per troppo tempo e il mio profilo Instagram può sembrare perfetto Beh amore Ma è lontano dalla realtà e penso che tutti lo sappiamo Vorrei mostrare le mie emozioni e le mie lacrime su come mi sento veramente Ma per qualche motivo ho sempre dovuto nascondere le mie debolezze Se non fossi la forte soldatessa di mio padre mi manderebbero in luoghi per farmi sistemare dai medici Qui penso che voglia dire devo essere forte e trattenere le mie emozioni Altrimenti mio padre magari mi fa internare E così giunge al termine questa storia d'amore Se non altro Sam si è sempre comportato in modo rispettoso nei confronti di Britney Che cos'è questo? Ma è un colpo di scena! Improvvisamente a questo punto una cliente di Sam Ashgari Che lui ha allenato in passato nella palestra in cui lavorava Ovvero la RPT Pubblica delle storie su Instagram sconvolgenti Affermando di essere stata molestata da lui E dichiarando di avere assistito ai suoi continui tradimenti nei confronti di Britney Spears La donna in questione si chiama Ashley Frank Ashley scrive su Instagram commentando la notizia del divorzio tra Britney e Sam Sedetevi ragazzi Non sono sorpresa Sam era uno dei miei personal trainer e amico quando mi allenavo alla RPT di Beverly Hills L'ha tradita per tutto il tempo in cui usciva con lei E anche quando si sono sposati Dovrei mandare gli screenshot dei suoi snapshot all'avvocato di Britney Anzi lo farò sicuramente Ha usato quella povera ragazza Ora sta cercando di ricattarla fuori dal contratto prematrimoniale Che cazzo lascia Britney in pace Attenzione attenzione ragazzi A quale ricatto si riferisce Ashley? In che senso Sam starebbe ricattando Britney? Ebbene prima di sposarsi i due avevano firmato un accordo prematrimoniale In base al contratto Britney in caso di divorzio avrebbe dato a Sam un milione di dollari ogni due anni di matrimonio Ma i due stanno divorziando dopo soli 14 mesi Quindi a Sam sapete cosa aspetta? Un biglietto di auguri Britney non gli deve neanche un centesimo Tuttavia sembra che Sam stia cercando di storcere denaro a Britney Dicendole che se non gli firma un assegno Rivelerà informazioni imbarazzanti su di lei Questo però ragazzi c'è sempre secondo le fonti non meglio specificate Quindi potrebbe tranquillamente essere una bufala Comunque Ashley pubblica anche un'altra storia in cui scrive L'esercito di Britney Spears è feroce Guarda caso la mia migliore amica a Los Angeles è amica dell'avvocato divorzista di Brit Laura Quindi le manderò le informazioni rilevanti che ho Laura ragazzi proprio lei è l'avvocato divorzista di Britney e Sam Laura Wasser la stessa di Kim e Kanye la stessa di Johnny e Amber la stessa di Angelina e Brad Lei è l'avvocata più fortunata al mondo cioè immaginate conoscere tutti in retroscena delle coppie più tossiche di Hollywood Ed essere anche pagata per ascoltare i fatti loro cioè non esiste un lavoro più bello del suo obiettivamente Comunque le accuse di Ashley non finiscono qui ragazzi il bello deve ancora venire e infatti a questo punto Ashley decide di rivelare di più Ashley pubblica lo screenshot della notizia in base alla quale Sam accuserebbe Britney di averlo tradito e picchiato Che poi non è manco vero che è lui che accusa lei sono voci Vabbè comunque Ashley commenta la cosa così Trovo assolutamente assurdo che lui stia sostenendo che lei lo abbia tradito pur sapendo dannatamente bene cosa abbia fatto lui sin dal primo giorno Ha deciso di diventare famoso quando ha iniziato a frequentarla È stato disonesto con lei fin dall'inizio e ne rideva con i suoi clienti in palestra I suoi colleghi gli altri allenatori alla RPT anche loro maiali bugiardi traditori hanno sostenuto ogni sua mossa Se questa fosse una notizia sul fatto che i due stiano divorziando per un motivo legittimo Io non avrei detto nulla ma leggere un titolo come questo sapendo tutto quello che so Io non posso tacere e allora parla Sento che tutte le donne che si sono allenate alla RPT o in privato con Sam dovrebbero essere oneste Potete rimanere anonime ed essere comunque oneste Personalmente non ho mai avuto rapporti con Sam Ho rifiutato tutti i suoi tentativi e non ho mai risposto a nessuna delle sue foto non richieste O a quando mi chiedeva di persona se volessi uscire con lui sotto le docce in palestra Scusa Sam non sei il mio tipo A dire la verità ho smesso di allenarmi là fuori insieme a loro perché ero così offesa dalle costanti molestie sessuali Io volevo una palestra con una community e volevo sentirmi al sicuro e a mio agio La RPT non era quello In effetti il proprietario mi deve ancora migliaia di dollari per l'allenamento personale inutilizzato Da quando mi sono ritirata come cliente a causa delle avance sessuali indesiderate da parte di più allenatori E della forzatura di medicina a base di ormoni per ottenere risultati Vabbè questo è un altro discorso Avete capito bene ragazzi Ashley sta accusando Sam di averla molestata In branco con gli altri allenatori mentre lei si allenava Addirittura Sam si sarebbe spinto a chiederle di uscire mentre lei faceva la doccia E non solo ragazzi Sam a detta di Ashley rideva della sua fidanzata Britney insieme ai colleghi A questo punto molti di voi si chiederanno ma questa Ashley perché non si faceva avanti prima quando Britney stava con Sam perché non l'ha mai messa in guardia da lui Ebbene in molti le pongono questa domanda e quindi Ashley decide di rispondere con queste due lunghe stories Ve ne leggo alcuni estratti Ok internet chiariamo alcune cose Ho vissuto a Los Angeles per tre anni Se dovessi farmi avanti riguardo tutti coloro che hanno abusato del loro potere e mi hanno molestato Sessualmente durante il mio tempo trascorso lì avremmo bisogno di almeno 365 giorni per leggere la lista Sì gli allenatori della RPT erano maiali per me Alcuni di voi si chiedono perché non mi sia fatta avanti prima La verità è che l'ho fatto Ho rimproverato quei ragazzi delle loro azioni anni fa Inoltre ho fatto ciò che era giusto per me e mi sono ritirata come cliente e mi sono allontanata da loro Sam usciva con Britney all'epoca Ma come facevo a sapere che si sarebbero sposati tipo sei anni dopo? La mia vita non ruotava intorno a loro Ho parlato con il mio terapeuta delle molestie Sì tuttavia non erano la ragione per cui ero in terapia Ho un trauma su cui ho lavorato per anni Non ho iniziato la terapia a causa delle loro molestie sessuali Notare la reazione del libro di Britney a tutto ciò Vabbè a questo punto Ashley racconta la sua esperienza a Los Angeles Praticamente dice di avere perso un ruolo cinematografico Perché si è rifiutata di dormire con uno dei produttori Cioè in realtà la storia è ancora più angosciante In pratica un conduttore ci ha provato con lei Lei lo ha rifiutato E lui sapete cosa ha fatto Quanto meno in base alla versione di Ashley Ma penso che sia vero perché Cioè manco fa il nome di questa persona Quindi non credo che abbia interessi personali nel rovinare qualcuno Comunque questo produttore L'ha invitata alla premiere di un film Film in cui Ashley aveva avuto un ruolo E aveva recitato delle parti Lei tutta contenta ha portato alla premiere dei suoi amici come accompagnatori Ma durante la visione del film ha scoperto con orrore che tutte le sue scene erano state tagliate Quindi il produttore l'aveva invitata solo per umiliarla fondamentalmente davanti ai suoi amici Ashley dice di essere uscita dal cinema in lacrime distrutta E di avere ricevuto poco dopo un messaggio da sto produttore Che le scriveva tipo Se vuoi lavorare a Hollywood devi rivedere le tue priorità E comunque per inciso sei fuori anche dal prossimo film E questo sarebbe il motivo per cui Ashley non solo va in terapia Ma se neppure è andata da Los Angeles Perché in tutto ciò parallelamente a Los Angeles c'erano pure gli allenatori molesti Che manco la facevano allenare in tanta pace Quindi c'è per lei Los Angeles è stato un incubo Ci sarà un motivo d'altronde se Lucifer sceglie proprio Los Angeles Come posto in cui andare a farsi una vacanza E quindi Ashley scrive Non è che Britney sia una mia amica personale E avrei potuto semplicemente dirle Ehi quel ragazzo è un maiale non uscire con lui Siate persone irrealiste Quindi in sostanza ragazzi Ashley dice Cioè io sto parlando ora solo perché i giornali stanno accusando Britney Di avere maltrattato Sam Quando io so che non può essere Cioè era il contrario L'ho visto con i miei occhi Era lui che faceva l'allupato con le sue clienti Era lui che rideva di lei E lui che è un malessere Se i giornali non stessero incolpando ingiustamente Britney Onestamente mi sarei fatta i fatti miei Due giorni dopo la separazione da Sam Britney pubblica questo video In cui un tizio le lecca la gamba Senza rancore Sam smette di seguirla su Instagram Due settimane dopo Britney chiude il profilo Instagram Quando lo riapre si mette a pubblicare foto In cui è tutta nuda E pubblica anche una sua vecchia foto Con il suo ex Justin Timberlake Sempre senza rancore Il 24 ottobre 2023 Esce nelle librerie The Woman in Me Il libro di memorie di Britney Spears E' come se fosse Natale Ma che dico Natale ragazzi E' come se fosse il giorno del giudizio universale Il giorno in cui le anime che hanno circondato Britney Spears Verranno valutate in base alle azioni compiute nei suoi confronti Chiunque in passato si sia comportato male con lei Contribuendo alla sua distruzione Subirà l'odio del pubblico di qui ai prossimi 100 anni Al contrario Coloro che l'hanno sostenuta Coloro che l'hanno aiutata Saranno perdonati per tutti i loro peccati Per esempio Se sono stati arrestati per guida in stato di ebbrezza Come è successo a Paris Hilton O se usano dei filtri fatti veramente male Come fa Madonna Comunque C'è tutto questo gli verrà perdonato Perché l'oro e solo l'oro In base a quanto riporta Britney nel suo libro Le sono state vicine nel periodo più difficile della sua vita Per cui Attualmente Paris Hilton e Madonna Sono venerate nel mondo Come massimo esempio di virtù Solidarietà femminile Eticità Poi c'è Possono anche aver torturato i coniglietti In passato Non importa Questo è il giorno dell'espiazione Altri come l'ex di Britney Justin Timberlake Hanno dovuto disattivare i commenti su Instagram Invece Woman in me È assolutamente Il libro Del giudizio universale L'uscita di questo libro è importante Anche perché con esso Britney racconterà la sua storia In modo completo Dall'inizio alla fine E alcuni si potrebbero chiedere Ma Non Non la conosciamo già a memoria Perché ne abbiamo bisogno Cioè Anche basta E no ragazzi La verità è che Per gran parte della sua vita Britney è stata al centro Di continue speculazioni Continue congetture E continue chiacchiere Spesso molto cattive Britney è vergine Britney non è vergine Britney ha tradito Justin Timberlake Britney è una madre irresponsabile Britney è pazza Perché si è tagliata i capelli Britney è controllata dal padre Britney è morta Britney è stata creata in laboratorio Britney non esiste Britney si droga Beve Non prende i farmaci Prende troppi farmaci Assume troppo caffè Dipendente dalla Red Bull Ma dopo una vita di pettegulezzi Finalmente possiamo ascoltare La sua versione La sua verità È la prima volta Ragazzi Che Britney racconta La sua storia In prima persona E questo significa Che lei Ne sta Finalmente Assumendo Il controllo Ed ecco perché L'uscita di questo libro È un evento Tanto atteso C'è da dire una cosa Il libro doveva uscire Quattro mesi fa Cioè Quattro mesi prima Non doveva uscire a ottobre Doveva uscire Verso giugno Ma A quanto pare Justin Timberlake E Colin Farrell E entrambi Ex fidanzati Di Britney Avrebbero chiesto Di leggere il libro In anticipo E avrebbero poi Preteso Attraverso i loro avvocati Che Britney Rimuovesse Alcune Parti E quindi Britney Ha dovuto slittare La pubblicazione Non molto tempo dopo Britney avrebbe ricevuto Lettere legali Anche da persone Che in passato Avevano lavorato Con lei Nonché dalla sua famiglia Sempre affinché Lei Rimuovesse Alcune parti E abbassasse Il tono Di alcune parti Del libro Insomma Britney Ragazzi Si è ritrovata Più di una volta Costretta Ad abbassare Il tono Del libro E quindi Taglia qua Taglia là Revisiona questo Revisiona quello Modera quell'altro E finita che Questo libro Che doveva essere letto Sotto l'ombrellone E uscito per Halloween Tutto questo Però nell'attesa Ci ha fatto capire Che cosa Che Woman in Me Sarebbe stata Una bella patata bollente E che molti Avevano paura Di questo libro Per questo motivo Già un mese prima Dell'uscita di Woman in Me Giornalisti Reti televisive Eccetera Si sono scannati Per avere l'esclusiva Ovvero L'intervista A Britney Spears Per presentare Il suo nuovo libro Perché Quando una celebrità Pubblica Un libro Di solito Fa un'intervista In esclusiva In tv Oprah Winfrey Invita Britney Nel suo programma Le più importanti Reti televisive Le più importanti Piattaforme streaming Le offrono ingenti Somme di denaro Ma Britney Rifiuta Tutto Rifiuta Tutti Dichiarando Di non essere pronta Per questo tipo Di interazione Con un giornalista E perché mai Perché Scrivere il libro Di memorie Per lei È stata un'esperienza Devastante Ha dovuto Rivivere Un trauma Esagerato Perché Giustamente Ha dovuto Narrare La sua storia Al ghostwriter E a quanto pare Per Britney Questa è stata Un'esperienza Talmente dura Che adesso La sta raccontando Di nuovo Allo psicologo Quindi non è il caso Di parlarne anche Con dei giornalisti Leggere questo libro È stata L'esperienza Angosciante Del mese Io Personalmente Ne sono uscita Distrutta Se è vero Che Britney Ha dovuto Più volte Moderare il tono Sinceramente Non oso immaginare Quale fosse prima Il tono Visto che Attualmente Il suo tono È Opprimente Io ho avuto La nausea Mentre Mentre leggevo Questo libro Non scherzo La storia di Britney È un racconto Di torture Torture fisiche Psicologiche Perpetrate Da persone Sadiche Che per tutta La sua vita L'hanno Deumanizzata E trattata Come se fosse Un robot Dirò una cosa Molto forte Ragazzi Che è forse Un po' tabù Da dire A voce alta Come cosa Però sono sicura Cioè proprio Mi gioco Non so cosa Giocarmi Che la maggior parte Dei lettori Di Woman in Me Almeno una volta Si sarà ritrovato A chiedersi Durante la lettura Ma Come ha fatto Britney a non Ammazzarsi Britney stessa Risponde a questa Domanda Verso la fine Del libro Dicendo Probabilmente Il fatto Che io Non mi sia Tolta la vita È la prova Che Dio Esiste E mi ha aiutata Perché è praticamente Un miracolo Ora Farvi un riassunto Dettagliato Di Woman in Me Sarebbe ridondante Dal momento Che già Abbiamo documentato Ogni singolo step Della storia Di Britney Spears Nella Britney Spears Saga Vi lascio la playlist Qui Perché ragazzi Sorprendentemente La ricostruzione Che abbiamo fatto Neanche io Mi aspettavo Questa cosa È risultata Molto Dettagliata Molto Completa A fronte Di quella Fornita Personalmente Da Britney Nel suo libro Permettetemi Di vantarmene Porca miseria Perché io ne sono Veramente orgogliosa È da quasi una settimana Che non mi odio Cioè la Britney Spears Saga Non ha Non ha sbagliato Un colpo Non ha saltato Credo Credo Magari mi sbaglio Neanche un passaggio Eccetto Le cose inedite Mai rivelate Prima Che sono state Rivelate Per la prima volta In esclusiva mondiale In questo libro Da Britney Ed è proprio Di queste cosine Queste cosine inedite Che oggi Dobbiamo parlare Perché Britney Nel suo libro Ha sganciato Ragazzi Delle vere Bombe Bombe Che le bombe Nucleari In confronto Sono mini ciccioli Pronti all'indignazione Ragazzi Via Commentate Con l'emoji Di una bomba Ogni volta Che vi esplode Lo stomaco Per la collera Bomba numero Uno Justin Timberlake Cominciamo col botto Cioè già abbiamo Raso al suolo Tutto lo studio Come ben sappiamo Britney Spears Una volta raggiunto L'apice della fama Si innamora follemente Del cantante Justin Timberlake I due vivono Una storia d'amore Appassionata Il pubblico Li adora Tutti li invidiano E sono i primi A lanciare la moda Del vestirsi abbinati Ancora oggi Ripresa dal più grande Stylist Dei nostri tempi Kanye West Tutto sembra filare perfetto Tra Britney e Justin Peccato che Un bel giorno I due si mollino Questo decreterà La morte Della reputazione Di Britney Spears Una morte efferata Crudele Violenta Brutale Perché Uno Justin insinuerà In un'intervista Che Britney Lo abbia tradito Due Justin Rilascerà Una canzone In cui praticamente Esprimerà Tutto il suo dolore Per essere stato tradito E nel videoclip Farà recitare La sosia Di Britney Spears Rendendo chiaro Che la canzone Sia riferita proprio a lei Cioè è Britney Quella che lo ha tradito Quella che gli ha spezzato Il cuore Portandolo a scrivere Questa canzone Tre ciliegina sulla torta Siccome si vociferava Che Britney Fosse vergine E che volesse arrivare Vergine al matrimonio Questo perché I suoi produttori Avevano deciso Che il suo personaggio Dovesse emanare purezza Infantilità Insomma che dovesse Eccitare i pedoni Ecco un giorno A Justin Timberlake Durante un'intervista In radio Verrà chiesto Se effettivamente Britney Spears Sia vergine E lui Al che Scoppierà a ridere Per poi negare La veridicità Della cosa Praticamente Justin a momenti Risponde Mancontaricchi Traduco agli amici Del nord No Nessuno Dei suoi fori Anatomici E integro Da questo momento in poi Inizierà la festa Dei tabloide Dei giornalisti E del pubblico Contro Britney Spears Britney verrà dipinta Come una donna Dai facili costumi Il mondo La odierà Un giorno Britney si recherà Allo stadio Con sua sorella Jamie Lynn E l'intero pubblico Inizierà a fischiarle Contro Questo racconto Lei lo racconta Scusate Sono allergica Alle cattiverie Dicevo Questo aneddoto Lei lo racconta Nel libro Dopodiché Verrà intervistata In tv Da Diane Sawyer Per un'intervista E Diane Rimprovererà Britney Di aver fatto Del male A Justin Timberlake Le farà ascoltare Un discorso Di una politica Che durante un comizio Dichiara di volerle Spassare In quanto È un cattivo esempio Per i bambini E la giornalista Sembrerà dare implicitamente Ragione alla politica Insomma La fine Della relazione Tra Britney e Justin Decreta Per Britney Spears La fine Della sua reputazione Ebbene Con questo libro Con Woman in Me Inizia La reputation era Di Britney Britney finalmente Racconta Tutto ciò Che avrebbe dovuto dire Tanti anni fa La verità E la verità È una str***a Per Justin Timberlake Ma lo sapete Ma lo sapete Chi è più str***o Della verità Justin Timberlake Era un malessere Tradiva Britney Continuamente Britney dice Che è uno Dei suoi ballerini Un giorno Le disse Lo sai Britney Mi ha indicato Una ragazza E mi ha detto La vedi quella Ieri sera Me la sono fatta Tra l'altro Britney dice Di non poter rivelare Il nome di questa ragazza In quanto oggi È famosa Sposata E ha dei figli E non le vuole rovinare La vita Ho come la sensazione Che questa sia Una delle parti Revisionate Comunque In generale Al tempo Dice Britney Circolavano molti pettegolezzi Su Justin Timberlake Che si faceva Le sue ballerine Però Spiega Britney Io lo perdonavo sempre Perché Ero Troppo innamorata Di lui Se non che Un giorno Mi sono girate male E sono andata A letto Con il ballerino Wade Robson Occhio per occhio Corna per corna Però Britney Ragazzi si sente In colpa E quindi Decide di prendere Il toro Per le corna E lo dice a Justin E lui ha Il cuore di perdonarla Il misericordioso Justin Timberlake Quindi questa relazione Va avanti per anni A forza di corna Fino a che Un giorno Britney Rimane incinta Di Justin Timberlake E son cazzo Britney ha 19 anni Mentre Justin Ne ha 21 Nonostante la giovane età Britney desidera Fortemente il bambino Lei ama i bambini E ha sempre sognato Di diventare madre Si sente pronta Per affrontare Questa sfida E desidera Costruire Una famiglia Con Justin Timberlake Di cui è Profondamente Innamorata Justin Justin Invece Piuttosto che Diventare padre A 21 anni Preferirebbe Buttarsi giù Da un grattacielo Con un ombrellino Di quello tipo Per i sandwich Anche questo è comprensibile D'altra parte Non si sente pronto E così Convince Britney Ad abortire Ora C'è un problema Il problema è che Entrambi Soprattutto Britney Vivono sotto il costante Scrutino Dei miti E dei paparazzi Quindi Recarsi in ospedale Per abortire Significherebbe Rassegnarsi al fatto Che la notizia Finirà sui giornali Perché ci sarà Per forza L'imbecille Per esempio Qualcuno del personale Dell'ospedale Un medico Un addetto alle pulizie Una paziente Che venderà Lo scoop A TMZ Ad esempio Ma figuriamoci E questo Britney Non lo vuole Non vuole affrontare Il giudizio del pubblico Che da una parte La crede ancora vergine E dall'altra parte Sa essere Soprattutto negli anni 2000 Molto crudele Nei confronti Di una donna Che decide Di abortire Ma soprattutto Ragazzi Non vuole affrontare Il giudizio Dei genitori Che per inciso Sono molto controllanti E molto critici Nei suoi confronti Ma di questo Ne riparleremo Quindi In sostanza Questo aborto Deve rimanere segreto Per mantenere il segreto Britney e Justin Decidono di non recarsi In ospedale Britney assume Una pillola abortiva In casa Senza alcuna Supervisione medica L'aborto di Britney Spears È un aborto Clandestino Insieme a lei Ci sono solo Justin e Felicia La sua assistente E Britney condivide Questo intenso Capitolo Della sua vita Nel libro E lo fa Usando queste parole Ve le leggo Ragazzi Perché io Penso che Il valore di questo libro Risieda proprio Nel poter ascoltare La storia di Britney Direttamente Da lei E quindi Sentire Il suo punto di vista Sugli eventi Il giorno stabilito Con solo Felicia E Justin Al mio fianco Presi le pillole Di lì a poco Fui colta da crampi lancinanti Andai in bagno E ci rimasi per ore Sdraiata sul pavimento A urlare E singhiozzare Avevo bisogno Di un dottore Invece rimasi Sdraiata lì In preda al terrore Chiedendomi se stessi Per morire Mi misi in ginocchio E mi aggrappai al WC Rimanendo immobile Per un tempo lunghissimo A oggi Resta una Delle esperienze Più strazianti Della mia vita Justin venne in bagno E mi si sedette accanto Sul pavimento Pensando che forse Un po' di musica Mi avrebbe aiutato Andò a prendere la chitarra Tornò vicino a me E si mise a strempellare Quello che ricordo A distanza di vent'anni Sono il dolore E la paura Che provai Quel giorno Nelle settimane successive Justin si allontana Gradualmente da lei Fino a che Un giorno La lascia Con un sms Dopodichè Mette in piedi Il teatrino Del tradimento Da parte di Brittany Facendola odiare Da tutta l'America E dintorni E il tutto Ragazzi Per dare un boost Al suo nuovo album A questo punto Brittany rilascia La canzone Everytime Una ninna nanna Drammatica Il cui videoclip Ci racconta Tutto Tutto quello Che ha descritto Oggi nel suo libro Questo episodio Dell'aborto Brittany in realtà Ce lo aveva già Mostrato In questo videoclip Ma ovviamente Non Sapendo del suo aborto Non potendo neanche Immaginare Che fosse successo Una cosa simile Perché nessuno Immaginava realmente Che nella vita di Brittany Potesse accadere qualcosa Che non sarebbe finito Sui giornali Ecco Nessuno Ha mai Capito Realmente Il significato Della canzone Everytime Il video Inizia con Brittany Che viene ignorata Dal fidanzato Mentre viene Assillata Molestata E aggredita Dai paparazzi Brittany litiga Violentemente Con il fidanzato Probabilmente Perché il fidanzato Le sta chiedendo Di fare una cosa Che lei Non vuole fare Dopodiché Brittany entra In una vasca Quindi In un bagno Si accorge Di star perdendo Sa E muore Muore Mentre contemporaneamente Una donna Partorisce un bambino In ospedale Le due scene Si alternano E si sovrappongono In passato Si è sempre pensato Che Everytime Fosse dedicata A Justin Timberlake Ne abbiamo parlato Anche in uno Dei video Della saga Io addirittura Se non sbaglio Avevo osato Interpretare La morte Di Brittany Sovrapposta Alla nascita Del bambino Come una sorta Di rinascita Della cantante Dopo la morte Interiore Causatale dalla Rottura con il suo Amore Justin Timberlake Ma adesso Con la pubblicazione Di Woman in Me Scopriamo il vero Significato Di Everytime Che è molto più Letterale Di quanto il mondo Non potesse immaginare Mentre dava a Brittany Della sgualdrina infedele L'immagine Della partoriente Il neonato Il suono Del carillon In sottofondo Le parole Della canzone Ragazzi Soprattutto Il ritornello Cioè il ritornello Dice Ogni volta Che ti vedo Nei miei sogni Vedo il tuo viso Mi tormenta Suppongo Che io Abbia bisogno Di te Baby Bambino Brittany Ce lo aveva detto In questa canzone Ma noi Non la sentivamo Perché La sua voce Era coperta Da Justin Che diceva Ha ha Non è più Vergine Quindi come Potevamo sapere Noi non potevamo sapere Ma sapete chi sapeva Justin Timberlake Eppure l'ha resa lo stesso La donna più odiata D'America La shitstorm Che Justin Al tempo Scatenò contro Brittany Oggi Nel 2023 Dopo la pubblicazione Di Woman in Me Ai lui Gli sta tornando indietro Come un boomerang Senza la vaseline La rabbia Che il racconto Di Brittany Scatena Nei sui fan È feroce Perché Non sapevamo nulla All'epoca E probabilmente Molti di voi Non erano neanche presenti 20 anni fa Per difenderla Alcuni perché Non erano nati Altri perché Erano troppo piccoli Quindi In qualche modo Oggi qualcuno Sente il dovere Di difenderla Dalla crudeltà Di Justin Timberlake Seppure in ritardo Ma ragazzi La verità è che È veramente Troppo tardi Sono passati 20 anni Oggi Justin Non ha più 21 anni Ne ha 41 E come Non mi stancherò mai Di ripetere Nessuno di noi È la persona Che era 20 anni fa Justin mesi fa Si è scusato Con un lungo post Per i comportamenti Misogini Che ha avuto in passato Ha spiegato Che al tempo Era un cazzone Che era Imbevuto Di patriarcato Ma che da allora È cambiato Diventando una persona Totalmente diversa E peraltro Ragazzi Sono ormai Anni Che Brittany E Justin Hanno fatto pace Si scambiano Commenti simpatici Sui social Si taggano Addirittura Considerato L'odio Che è L'uscita Di woman Di woman Mi ha scatenato Contro Justin Timberlake Brittany a un certo punto Ultimamente ha scritto Su instagram Il mio libro Non aveva lo scopo Di offendere nessuno In alcun modo Quella ero io Allora Tutto quello È nel passato D'altra parte Però ragazzi Brittany Spiega che Aveva veramente Bisogno di scrivere Questo libro Per chiudere un cerchio Per elaborare il passato E metterci Una pietra Sopra Non lo ha fatto Per vendicarsi Di Justin Timberlake Lo ha fatto Per se stessa Per affermare Che non è La brutta persona Che i tabloid Hanno sempre dipinto E in effetti Secondo me Ragazzi Nel libro Non trapela Alcun risentimento Da parte di Brittany Nei confronti Di Justin Per carità Justin Nesce male Allora Diciamo che Brittany Non calca la mano A differenza Dei giornali Che stanno Estrapolando Questi aneddoti Dal libro di Brittany Per far sembrare Che Brittany Piena di risentimento Abbia Puntato il dito Contro Justin Tentando di Mandargli Odio Contro Per esempio Una delle cose Che ho letto Molto spesso Da quando è uscito Questo libro È Justin Timberlake Ha costretto Brittany Spears Ad abortire Allora Io questo Non credo Brittany nel libro Spiega chiaramente Che benché Lei non avrebbe Abortito Benché Lei avrebbe Tenuto il bambino È una decisione Che i due Alla fine Confrontandosi Hanno preso Insieme Vi riporto Le parole Di Brittany Se non se la sentiva Di diventare padre Non mi sembrava Di poterci fare Molto Non volevo Costringerlo A un ruolo Che non desiderava Per me La nostra relazione Era la cosa Più importante E così So che mi detesteranno Per questo Alla fine Accettai Di non tenere Il bambino Quindi in altre parole Ragazzi Justin Non voleva un figlio E non puoi costringere Una persona Uomo Donna Che sia Ad accollarsi Un figlio Di conseguenza In questi casi Per la donna Le opzioni Sono due Tieni il bambino Lasci il tuo partner E cresci il bambino Senza il tuo partner Oppure Abortisci E Vai avanti Con la tua relazione Brittany Ha scelto Justin Certo è vero Che poi Justin L'ha lasciata Con un sms Poco dopo Cioè Vabbè Lui ha giocato sporco Glielo poteva dire Prima che intendeva Lasciarla lo stesso Vabbè In ogni caso Insultarlo oggi Quando persino Brittany Lo ha perdonato Non mi pare Un modo edificante Di passare il tempo Sui social Io l'ho bloccato Così da passare il tempo In modo più edificante Ora Negli ultimi giorni L'amico di Justin Timberlake Timbaland Ha deciso Di ravvivare La rabbia Della gente Nei confronti Di Justin Timberlake Non lo so Perché praticamente Durante un'intervista Gli viene chiesto Timbaland Ma tu Cosa ne pensi Del libro Woman in me E lui ragazzi Risponde Velocito testualmente Ma questa è impazzita Vero Io volevo chiamare Justin Timberlake Per dirgli Amico Avresti dovuto mettere Una museruola A quella ragazza Sentite con le vostre orecchie Il pubblico che ride È lo stesso Che andava agli spettacoli Di Miranda Dunque secondo i miei calcoli Qui c'è effettivamente Qualcuno a cui andava messa La museruola Prima che parlasse Ma quel qualcuno Non è Britney Spears Se Timbaland Pensava di aiutare Il suo amico Justin E di starlo difendendo Ha preso un granchio Perché l'unico effetto Che ottiene È quello di Aggravare La shitstorm Contro Justin Timberlake Perché a quanto pare Justin oltre a essere stato In passato Uno strong Ha pure gli amici Che sono Ancora attualmente Degli strong Ma la verità ragazzi Secondo me È che a Timbaland Non fregava niente Di difendere Justin Timberlake Lui semplicemente Ha un problema Con Britney Spears Da anni Cioè a lui Sta sul naso Secondo me Britney Infatti dovete sapere Che nel 2020 Britney ha postato Questo video In cui Ballava sulle note Di una canzone Di Indovinate di chi Ragazzi Di Timbaland Esatto E sapete cosa ha fatto Timbaland Al tempo Ha postato Il video Su Twitter Prendendola in giro A questo punto Infuria La polemica Contro Timbaland E indovinate Chi interviene In difesa Di Britney Sam ragazzi Il suo ex marito Che su Instagram Prende E accusa Timbaland Di comprarsi I followers A questo punto Timbaland Asfaltato Come una strada Chiede umilmente Scusa Durante una live Su TikTok Pronunciando Queste parole Vi leggo Le sue scuse Mi scuso Mi scuso con tutti i fan Di Britney Persino con lei Che vuol dire Persino Il persino Mi spezza Perché persino Con lei Cioè Cos'è un oggetto Inanimato Tipo come dire Non sono venuto Alla scena Mi scuso Con tutti Persino con il forno Comunque poi Timbaland decide Di rettificare E lanciare Il messaggio Corretto E dice Rivolgendosi a Britney Spears Tu hai una voce Parla di ciò Di cui vuoi parlare Chi sono io Per dirti cosa Non dire Ho sbagliato A dire quella cosa E poi ripete Chiedo scusa Ai fan di Britney E a lei Posso rispondere Cioè Posso No scusate ragazzi Ma io lo devo fare Comunque per concludere Il capitolo Justin Timberlake Britney In Woman in Me Racconta Di esserne uscita Devastata Dalla rottura La prende proprio male Cioè Lei scrive Vi leggo le sue parole Per mesi Non aprì Quasi bocca Ogni volta che qualcuno Mi chiedeva di lui Scoppiavo a piangere Uscivo di casa Solo di rado Britney inoltre Dice che fissava Il soffitto Tutto il giorno Dice che a questo punto Ha iniziato a soffrire Di ansia sociale Al punto che A questo punto Si chiude in casa E mangia solo Cibo da asporto Per quattro mesi Il tutto Fino a quando Non conosce Colin Farrell Chiaramente Britney si piglia Una cotta Per Colin Farrell Ora Come vi ho già detto Ragazzi Colin Farrell È uno di quelli Che avrebbe Richiesto a Britney Di tagliare Alcune parti Su di lui La cosa strana È che Britney Non parla male Di lui Nel libro Anzi Tutto ciò che dice È Furono Due settimane Di fuoco Anzi Di lotta Eravamo Eravamo talmente Ossessionati L'una dall'altro E sempre così Avvinghiati Che sembravamo In rissa perenne Ho paura Di quello che Poteva esserci Scritto Nella versione Originale Ma va benissimo Così Cambiamo argomento Che è meglio In tutto ciò In questa parentesi La famiglia Di Britney Non esiste Soprattutto suo padre Cioè suo padre È irreperibile L'unica persona Che le sta Veramente vicina Vicina In questo periodo È Madonna Madonna È l'unica persona Che tenta Veramente Di aiutarla Quindi Madonna Di nome Ma a quanto pare Anche di fatto Andiamo avanti Bomba numero 2 Kevin Federline Se Justin Timberlake Vi è sembrato Poco raccomandabile Tranquillissimi Kevin Federline Ve lo farà sembrare Un cavaliere Proprio L'uomo dei sonni Un giorno Britney Conosce Kevin Federline Un cantante Si innamora di lui Si mettono insieme E un giorno Tempo dopo Scopre che Kevin Ha un figlio Interessante Poi scopre che Ops La sua ex È incinta E vabbè Di 8 mesi Britney chiede Spiegazioni a Kevin E lui la rassicura Dicendole Amore mio Stai tranquilla Tanto io Vedo i miei figli Solo una volta al mese Cosa fa Britney Se lo sposa E fa un figlio con lui Anzi due Cioè ne fanno due Di fila Britney Paladina Di tutte quelle che nella vita Hanno fatto scelte del cazzo Per favore Non la giudicate Ha già scontato la sua pena Per aver fatto una scelta Enormemente del cazzo Ovviamente Kevin fa con i suoi figli Esattamente Quello che ha fatto Con i suoi figli precedenti Ovvero Se ne sbatte Britney però Lo giustifica sempre Perché pensa Ma si Si sta solo Concentrando sulla carriera La carriera Lei invece Si concentra Sui pannolini Fitusi Ogni tanto Britney va a trovare Kevin Nello studio Sul set Ma lui Non la fa Entrare Cioè c'è la sicurezza Messa fuori Che le dice Tu qui Non puoi passare E c'è come se fosse La signora Nessuno Così Un giorno Britney Pensa No ma io Devo vedere Che cosa fa Nello studio Di registrazione E quindi Prova a spiare Suo marito Dalla finestra E lo vede Che fuma erba Insieme ai colleghi Anzi lei dice Lo studio Era diventato Un night club Cosa fa Britney Niente Che vi aspettavate La cosa Va avanti Fino a quando Kevin Non la gosta Cioè piano piano Lui scompare Capito Suo marito Il padre Dei suoi figli Piano piano Non si fa più sentire Immaginate Vostro marito O vostra moglie Con cui avete Due figli Che un giorno Va al lavoro E niente Si fa sentire Sempre meno Finché non si fa sentire Più E sparisce Cioè What the fuck A questo punto Britney Inizia a soffrire Di depressione Post partum Premesso Che anche se Non avesse appena Avuto due partum Secondo me A questo punto Cioè La depressione Sarebbe stata Scontata lo stesso Figuriamoci però Avendo avuto Due bambini Di filo Per chi non sapesse Cosa sia la depressione Post partum Cerco di spiegarvela Facile facile Bello questo neonato Ma ci ho pensato E non me la sento Non sono capace Non voglio fare la vita Da madre Ehm Come si fa il reso Ah non si può fare il reso Cioè non ho il diritto Di recesso Quindi è così Che sarà la mia vita Fino alla mia morte In che se Cioè quindi sono in trappola E mi ci sono messa da sola Oddio ma io ho sempre sognato Questa vita E invece fa schifo Il bambino mi impedisce Di lavorare Non ho più tempo Per vedere i miei amici Per lavarmi Per truccarmi Per dormire Per pensare La mia vagina La mia vagina è strappata E quindi niente Che cosa devo fare Non posso fare niente Allora piango Piango tutto il giorno Perché è l'unico atto Di libertà Che mi rimane Piango tutto il giorno Perché le mie lacrime Sono l'unico modo In cui mi posso Lavare la faccia Io penso che la depressione Postpartum Dovrebbe essere spiegata Così Nei manuali A questo punto Dal momento che Kevin Ha deciso Di darsi Alla macchia Giustamente Britney Chiede il divorzio Già che sto piangendo Piangiamo anche Per il divorzio Finalmente Direte voi E no ragazzi Mossa sbagliata Perché Essendo che formalmente È Britney A chiedere il divorzio Tutti i giornali Accusano Britney Spears Di avere sfasciato La famiglia Che aveva Appena creato Kevin Al contrario Ufficialmente Risulta in lasciato E questo Gli porta Una tonnellata Di pubblicità Positiva Molto utile Visto che Guarda caso Ha pubblicato Un nuovo album La settimana prima Dell'annuncio Del divorzio Britney Saprà dall'avvocato Che Kevin Stava giusto Aspettando Che a chiedere Il divorzio Fosse lei Perché lui Non se la sentiva In conclusione Ragazzi Britney scrive Ripensandoci Non posso che concludere Che Justin e Kevin Furono molto scaltri Sapevano entrambi Quello che stavano facendo E io Ci cascai In pieno L'industria Dello spettacolo È così Non ho mai saputo Giocare al loro gioco Ero giovane Ho commesso Un sacco di errori Ma non ero Una manipolatrice Ero stupida E basta A confortare Britney In questa difficile Fase della sua vita C'è Paris Hilton Paris ogni tanto La fa uscire La fa svagare Ma la stampa Purtroppo Proprio per queste uscite Tra l'altro Molto rare Ritrae Britney Come una donna Cioè come una Poco di buono Nonché come una madre Negligente Che abbandona I figli a casa In tutto ciò Però di quello Che fa il padre Non si preoccupa Nessuno Kevin fuma Lo fa anche Sul luogo di lavoro Non è assolutamente Presente con i figli Va spesso alle feste E non rende conto E ragione A nessuno Nessuno Osa etichettarlo Come un padre Irresponsabile Nessun giornale Lo critica Quando si diverte Con gli amici Indovinate Perché? Perché lui ha qualcosa Che Britney Non ha Il pen Questo piccolo Ma utilissimo Lascia passare Che ti consente Di vivere la tua vita Senza l'onere quotidiano Di dimostrare Al mondo intero Che sei un genitore Eccellente Sapete Chi Anche in questo caso A differenza di Paris Hilton Non supporta minimamente Britney Mentre ha la depressione Post partum Mentre affronta Un divorzio Con due bambini neonati Appesi alle tette E mentre sopporta I paparazzi Che mettono sui giornali Le foto della sua patonza Che si intravede Da sotto il vestito Mentre lei è ubriaca Sapete Chi non le sta vicino In questo periodo Ovvero il periodo Più difficile e doloroso Della sua vita La sua famiglia Suo padre Jamie Si avvale Della facoltà Di non esistere La stessa facoltà Di cui si avvale Mark Caltagirona Sua madre Invece Non fa che farla sentire Una pessima persona Parole di Britney Britney Nel suo libro Racconta per esempio Di quella volta In cui Una volta appunto Rientrò a casa Dopo una delle sue rare uscite Con Paris Hilton E Sua madre Le urlò contro Perché era ubriaca Trattandola come se fosse Una ragazzina Scrive Britney La vergogna Che provai Mi spezzò il cuore Ero sconvolta E mi ritrovai a pensare Bene A quanto pare È vietato divertirsi Mia madre Mi faceva sempre sentire Come se fossi Una pessima persona Non importa Quanti fan avessi Per i miei genitori Non valevo nulla Come si può trattare Così la propria figlia Quando sta affrontando Un divorzio Quando si sente sola E persa Non offrire nemmeno Un briciolo di comprensione In un momento così difficile È proprio crudele Soprattutto perché io Non gli rendevo mai Pan per focaccia Ora Non è che per divertirsi Bisogna per forza Ubriacarsi Però Dopo un divorzio Forse sì D'altra parte Ragazzi Comprendo anche Che per la mamma Di Britney Vedere tornare a casa La figlia ubriaca Potesse essere un trigger Dal momento Che lei Aveva divorziato Dal marito Dal padre di Britney Proprio perché Tornava ubriaco La sera Cioè magari La madre temeva Che Britney Potesse ereditare Il comportamento Del padre E iniziare a fare Abuso di alcol Questa volta Quindi mi sento Di spezzare Una lancia In favore Di Lynn Spears Comunque Un giorno I bambini di Britney Il più piccolo Di 5 mesi E il maggiore Di 17 mesi Vanno da Kevin Improvvisamente Kevin Chiede L'affidamento Esclusivo Dei figli A sorpresa Sostenendo che Britney La loro madre Non li debba Più vedere Boh Inizialmente Britney Non prende la cosa Sul serio Cioè lei pensa Che sia solo Una mossa Per attirare L'attenzione Dei tabloid Ma che Kevin Non faccia Per davvero Cioè le sembra Impossibile Considerando Soprattutto che Kevin Non è che abbia Tutta questa Incredibile Relazione Con i bambini Quindi cioè Non ha senso Per lei È solo una Narrazione Da passare Ai tabloid Tuttavia Passano i giorni E Kevin Non le restituisce I bambini E le nega Il diritto Di vederli Britney Sconvolta Una sera Si reca A casa di Kevin Kevin Non la fa neanche Entrare La lascia fuori Dall'edificio Appesa Al citofono A supplicarlo Davanti a una Folta schiera Di paparazzi Di permetterle Di vedere I suoi figli Britney Scrive nel suo libro Immaginai che non sapessero Dove fossi Che si chiedessero Perché la loro mamma Non volesse stare con loro A quello spettacolo Assistettero anche i paparazzi Non riesco a descrivere L'umiliazione che provai Mi sentivo violata Ero indifesa Braccata come sempre Da quegli uomini Che non aspettavano altro Che io facessi qualcosa Che valesse la pena Di fotografare Così Quella sera Decisi di accontentarli Entrai da una parrucchiera Presi un rasoio E mi tagliai I capelli A zero Lo trovarono tutti Esilarante Questa è davvero fuori I miei genitori Accolsero la notizia Con imbarazzo Ma nessuno Sembrava capire Che ero andata Fuori di testa Dal dolore Mi avevano portato Via i miei figli Con la testa rasata Tutti avevano paura Di me Anche mia madre Nessuno mi parlava più Ero troppo brutta Rasarmi Era un modo Per dire al mondo Andate tutti quanti Affancù Volete che sia bella Per voi Col cazzo Volete che mi comporti bene Per voi Col cazzo Volete che sia la ragazza Di vostri sogni Col cazzo Per anni mi ero trattenuta Avevo sorriso educatamente Mentre i presentatori televisivi Mi guardavano il seno Mentre i genitori americani Mi accusavano di traviare I loro figli Perché avevo la pancia scoperta Mentre i dirigenti Mi trattavano Con condiscendenza Dandomi contentini E si indacavano Sulle mie scelte Anche se avevo venduto Milioni di dischi Mentre la mia famiglia Si comportava Come se fossi una criminale Ma ora non ne potevo più Io volevo soltanto Vedere i miei bambini Mi sentivo male Quando pensavo alle ore Ai giorni E alle settimane Che avevo trascorso Senza di loro Una volta un'amica Mi disse Se qualcuno mi avesse portato Via mio figlio Altro che tagliarmi i capelli Avrei dato fuoco alla città Je suis l'amica di Brittany A questo punto Brittany Prende la coraggiosa decisione Di farsi ricoverare Questo lo sapevamo Ma nel libro Per la prima volta Ci rivela il motivo Aveva una dipendenza Dalle anfitamine In particolare Dall'adderal Questo farmaco Di norma utilizzato Per trattare il disturbo Da deficit dell'attenzione E anche noto Come droga dello studio Perché è conosciuto Dagli studenti disperati Per migliorare La concentrazione Però Ragazzi Non usatelo Non ve lo consiglio assolutamente Perché l'uso prolungato Comporta conseguenze Decisamente peggiori Di un voto basso Al termine del suo ricovero Brittany è una persona nuova Smette di essere il fiorellino Gentile ed educato Che il mondo ha sempre calpestato E inizia a fottersene Inizia la fase di ribellione Della sua vita Brittany esce con un paparazzo È innamorata cotta di lui Ma la sua famiglia Pensa che questo sia un malintenzionato Che la manipoli Vi ricordate quando Jamie Lynn Nel suo libro Insinuava che questo paparazzo Sam Latfi Drogasse sua sorella E raccontava Jamie Lynn Di come Sam Latfi Vietasse ai suoi genitori Di entrare in casa Di Brittany E vi ricordate Che il padre di Brittany Aveva fatto emettere Un ordine restrittivo Nei confronti di Sam Latfi Accusandolo di avere preso Il controllo della vita Di sua figlia Brittany E vietandogli Di avvicinarsi Di nuovo a lei Bene I woman in me Abbiamo finalmente Il punto di vista Di Brittany Fate attenzione Perché questo è l'evento chiave Che scatenerà La conservatorship Per quanto assurdo Possa sembrare Iniziai a frequentare Un fotografo Ero completamente Cotta di lui Aveva lavorato Come paparazzo E la gente pensava Che stesse tramando Qualcosa di losco Ma tutto ciò Che riuscivo a vedere Erano i suoi modi Cavallereschi E l'aiuto che mi offrì Quando gli altri Erano diventati Troppo aggressivi Il fotografo Mi aiutò Con la depressione Io cercavo attenzione E lui me la dava Alla mia famiglia A lui non piaceva Ma anche a me Non piacevano Molte cose Della mia famiglia Il fotografo Mi incoraggiava A ribellarmi Lasciava che vivessi La mia vita Senza smettere Di amarmi Incondizionatamente Non era come mia madre Che mi sgridava Perché uscivo A divertirmi Lui mi diceva Tesoro Sei tu che decidi Fa quello che vuoi Non era come mio padre Che per il suo amore Poneva condizioni impossibili E così Con il suo sostegno Vivevo la mia vita Al cento per cento Era una sensazione incredibile Vivere in modo Così sregolato Così lontana Da come tutti Volevano che fossi Parlavo come se fossi Completamente pazza Urlando a tutti Ovunque mi trovassi Anche nei ristoranti Uscivo a cena Con gli amici E mi sdraiavo Sul tavolo Era un modo per dire Vaffanculo A chiunque mi capitasse a tiro Insomma in due parole Ero cattiva O forse più che cattiva Ero solo Molto Molto arrabbiata Volevo scappare Non avevo più i miei figli E dovevo scappare Dai paparazzi E dai media Volevo andarmene Da Los Angeles Quindi io e il fotografo Andammo in Messico Bene dai L'abbiamo vissuta Tutti questa fase La fase di ribellione In cui si scappa in Messico O si vorrebbe tanto farlo Io l'ho attraversata Ne sono uscita Con una parte del cervello Bruciata irreversibilmente E foto imbarazzanti Finite sui social Che è anche peggio Però ne sono uscita Ce l'ho superata E sono comunque Contenta Nel ripensare A quella fase Della mia vita Tutti abbiamo avuto O avremo La fase di ribellione E se non ce l'avete ancora avuta L'avrete Probabile che l'avrete Prima o poi C'è chi la sperimenta Nell'adolescenza C'è chi la sperimenta A 40 anni C'è un'amica di mia madre Che ne ha 70 Boh Forse 80 Adesso è vedova E del suo momento È una fase E passa Di solito Si trovano le risorse Per superarla Al massimo Possiamo avere bisogno Di qualcuno Che ci dia Il numero di uno Bravo Però Insomma In qualche modo Ce la si fa E anche Britney È convinta Che le sarebbe passata Prima o poi Infatti scrive Se mi avessero lasciato Vivere la mia vita So che avrei seguito Il mio cuore E sarei uscita Da sola Dal mio periodo nero Risolvendo I miei problemi Spoiler Non lo faranno Ma andiamo per ordine Quindi Britney E il paparazzo Vanno a vivere in Messico Ok Un giorno Mamma Lynn Chiama Britney E le dice di tornare Perché in pratica C'è la polizia Che la sta cercando Britney ovviamente Si preoccupa Va a casa di sua madre E succede Quello che succede Vi leggo Quello che succede Dal punto di vista Di Britney All'improvviso Si sentirono Degli elicotteri Che volavano Intorno alla casa Sono per me Chiedi a mia madre È uno scherzo Non lo era Una squadra speciale Composta da 20 poliziotti O giù di lì Irruppe in casa Che cazzo Fatto Continuavo a gridare Non ho fatto niente Sicuramente ero stata Turbolenta Ma nulla Giustificava il fatto Che mi trattassero Come una criminale Nulla gli dava il diritto Di sconvolgermi Completamente la vita Britney a questo punto Viene portata In una clinica E ben presto Le arriva La notizia Dal tribunale Sarà Sottoposta Una conservatorship E il tutore Della sua persona E del suo patrimonio Sarà la persona Di cui Britney Ha più paura Suo padre E qui ragazzi Giungiamo Alla bomba Numero 3 La conservatorship La bomba Più dolorosa In assoluto La storia Che tutti Conosciamo Ma che tutti Aspettavamo Di sentir Raccontare A Britney In persona Per cui Vi leggo Direttamente Le sue lucidissime Parole A essere messi Sotto conservatorship Una specie Di tutela legale Sono in genere Individui In condizioni Di infermità mentale Incapaci Di badare A se stessi Ma io Ero altamente Funzionale Sì ragazzi Ma comunque Visto che lei Non lo racconta Vale la pena Ricordare Che suo padre Al tempo Come potete vedere Anche voi Da questo documento Dichiarò Al tribunale Che sua figlia Soffrisse Di demenza E disse Che avrebbe fornito La diagnosi Entro qualche mese La diagnosi Ovviamente Non fu mai consegnata Questo semplicemente Perché Britney Non aveva Non ha E non ha mai avuto La demenza Se Britney Avesse avuto la demenza 15 anni fa Oggi Con ogni probabilità Non sarebbe più Tra noi E Nel caso Fortunato In cui Lo fosse Non avrebbe Le capacità cognitive Di parlare Mangiare Muoversi Figuriamoci Di scrivere Un libro Britney Non ha mai Avuto La demenza E infatti Dice Britney Nel suo libro Io stavo benissimo Tanto è vero Che E qui proseguo Con la lettura Avevo appena Registrato L'album migliore Della mia carriera Comunque vabbè Inizialmente Britney Non la vede Come una gran tragedia La conservatorship Dal momento Che Scrive Britney Una conservatorship Può durare Un paio di mesi E poi Quando la persona Si rimette In carreggiata Le si permette Di tornare A controllare La propria vita Ma non era quello Che mio padre voleva Voleva molto di più Riuscì a ottenere Due diverse forme Di conservatorship Quella della persona E quella Del patrimonio Il tutore della persona È tenuto a controllare Tutti i particolari Della vita del tutelato Per esempio Dove vive Cosa mangia Se può guidare E cosa fa ogni giorno Nonostante in tribunale Avessi implorato la giudice Di nominare letteralmente Chiunque altro E vi assicuro Che chiunque altro Anche il primo Che fosse passato Sarebbe stato meglio Fu mio padre A ricevere l'incarico Lo stesso uomo Che mi faceva piangere Quando dovevo salire in macchina Con lui da bambina Perché parlava da solo In aula Dissero che ero pazza E che per questo Non potevo scegliermi Il mio avvocato Questa ragazzi È una bugia Britney legalmente Potrebbe scegliere Un nuovo avvocato E contrastare La conservatorship Ma per 13 anni Le verrà detto il contrario Dopodiché Nel libro Britney spiega Il ruolo Del tutore del patrimonio Perché appunto Suo padre Diventa anche Tutore del patrimonio Il tutore del patrimonio E il mio patrimonio Valeva A un certo punto Decine di milioni di dollari Gestisce gli affari Del tutelato Per evitare Che questi sia Esposto a influenza In debita O a frode Questo ruolo Fu assunto Da mio padre In collaborazione Con un avvocato Di nome Andrew Wallet L'avvocato portafogli Per chi ha visto la saga Perché è troppo assurdo Che un tutore del patrimonio Si chiami Wallet Cioè portafogli In inglese Che sarebbe stato pagato 426 mila dollari L'anno Da lei Attenzione Per tenermi lontana Dai miei soldi Nel corso degli anni Ci sono stati momenti In cui ha avuto bisogno Di mio padre E l'ho cercato Ma lui non c'era Ma quando arrivò Il momento di diventare Il mio tutore Si fece trovare Subito pronto Gli sono sempre Interessati Solo I soldi Ora ragazzi Britney Britney ha una teoria La sua teoria La sua teoria Poggia su una curiosa Coincidenza Suo padre A quanto pare Doveva A una scerta Lou Taylor La bellezza Di 40 mila dollari Che Jamie Avesse un debito Milionario Non è cosa Che ci sorprende Perché a questo punto Del libro Sappiamo che Il padre di Britney Nella sua vita Ha sempre fatto Debiti Questo a causa Della sua Dipendenza Dall'alcol Cioè lui Avviava imprese Come è successo Con una palestra Solo per mandarle All'aria Ubriacandosi Non presentandosi Al lavoro E causandone Il fallimento Se c'è una cosa Che sappiamo Del signor Jamie Spears È che lui Ha sempre avuto Due problemi Nella sua vita L'alcolismo Quindi un problema Di salute mentale E l'incapacità Di gestire il denaro Sarebbe assurdo Pensare di affidare A lui La tutela Dei soldi Di Britney E della salute Mentale Di Britney Ma hey That's America For you Jamie Spears Sarà anche un alcolista Con problemi finanziari Potrà anche essere lui Quello che non sa stare Al mondo per primo Ma è più idoneo A occuparsi di sua figlia Rispetto a se stessa Perché Sua figlia Purtroppo Ha una grave Menomazione Che va Ben oltre La gravità Della demenza La vagina Comunque Andiamo a questa Teoria di Britney Che dobbiamo andare avanti Britney ipotizza Che mentre lei Era in Messico A spassarsela Col suo paparazzo Suo padre Lou Taylor E sua madre Si siano seduti Sul divano E abbiano escogitato Un piano Malvagio Alle sue spalle Approfittare Approfittare Un'agenzia 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 che però Contava pochi clienti All'epoca Quindi Britney Crede che Lou Taylor Abbia visto in lei L'opportunità Perfetta Per lanciarsi Una volta E per tutte Nel settore Suo padre Jamie A detta di Britney Idolatrava Lou Taylor E lei Riusciva a manipolarlo Per ragioni Non chiaramente Specificate Nel libro Quella del piano Malvagio Però È solo Una teoria Di Britney Niente più Che una teoria Una teoria supportata Da molte prove Ma rimane una teoria Ad esempio Recentemente È emerso Uno scambio Di email Interessante Tra Lou Taylor Il padre di Britney E l'avvocato portafogli In un'email Datata 15 giorni prima Che Jamie Presentasse La richiesta Di conservatorship Per la figlia Lou Taylor Scriveva Di avere parlato Con lo studio legale Dell'avvocato portafogli E che avrebbero gestito Tutti insieme Appassionatamente I soldi di Britney Come co-tutori Concludendo la mail Con un ottimistico Non vedo l'ora Di lavorare con voi Quindi la conservatorship Di Britney Per loro Era un lavoro Capito L'inizio Della loro Collaborazione Parole dure Cioè Fa a capponare La pelle Questa cosa Perché la conservatorship Dovrebbe riguardare Solo la persona Che è poverina Alla sfortuna Di stare male E non potersi Gestire da sola Pensate Una persona Anziana Gravemente disabile Mentre il suo tutore Semplicemente La dovrebbe aiutare A condurre Un'esistenza dignitosa Fino alla sua Eventuale ripresa Se possibile Fine Ma questi parlano Della conservatorship Di Britney Come se fosse una start up Non sembrano avere Alcuna considerazione Del fatto Gravissimo Devastante Di star privando Un essere umano Della sua libertà E Jamie Spears È di sua figlia Che sta parlando Cioè Lasciamo perdere La gente Lasciamo perdere L'avvocato Che sono comunque Persone esterne Quella è sua figlia Cioè lui sa Che sua figlia Sta per essere Sottoposta A una tutela E un genitore Dovrebbe essere Preoccupato È inquietante Che Jamie Spears Stia trattando La cosa via email Con un'agenzia Come se si trattasse Di una collaborazione E sapete Cos'è ancora più preoccupante Che uno degli avvocati Dello studio Legale Portafogli Sempre in questo Scambio di email Così Delizioso A un certo punto Esprima preoccupazioni Sul fatto che Mannaggia la miseria L'unico giudice Disponibile Non avrebbe Dato A Jamie Il potere Di somministrare Farmaci Psicotropi A Britney Si intende Ma Allora Domanda Che senso Ha inviare Queste informazioni All'agenzia All'Utelor Cioè Cosa gliene frega Questa Punto secondo Ci sarà un motivo Se il giudice Non vuole dare A Jamie Il potere Di somministrare Farmaci Psicotropi A sua figlia Cioè Tutto questo È tipo L'incubo Di Kanye West Pensateci Ragazzi Vogliono fare Passare Britney Per pazza E somministrare Le farmaci Per controllarla È esattamente Quello che Kanye West Sostiene Che voglia fargli Sua suocera Pensate quanto Ci sembra assurdo Che possa essere Vera Una cosa del genere Quando la dice Kanye West E perché E perché ci sembra Assurda Perché sarebbe Troppo crudele Per essere Vero E pensate Che invece Questo scenario Si è verificato Realmente Nella vita Di Britney Ed è stato Il padre A costringere La figlia A queste Condizioni Cioè il padre Manco La suocera Perché Cioè Che tua Suocera Ti voglia Internare Ci sta Di fatto Che a questo Punto Britney Viene Sottoposta Alla tutela E qui Scoppia L'altra Bomba Perché Nel libro Britney Parla Delle Regole Alienanti Che da Questo Momento In poi Per i Prossimi 13 Anni Sarà Costretta A rispettare Non può Guidare Non può Scegliere Un ragazzo Non può Vedere I suoi Figli E ci sono Addetti Che tengono Il conto Delle volte In cui Va in Bagno Sia In casa Sua Che In studio Di Registrazione Pensate L'umiliazione Ma non Finisce Qui Suo padre Controlla Cosa Mangia Le ripete Continuamente Che è Grassa La sottopone A una dieta Ferrea Le fa mangiare Solo pollo E verdure In scatola E la costringe A fare Continuamente Esercizio Fisico Britney Scrive Parlando Di suo Padre Mi faceva Sentire Bruttissima E incapace Un giorno Britney Addirittura Si ritrova A supplicare Il loro Maggiordomo Di portarle Per favore Qualcosa Di sfizioso Qualunque Cosa Va bene Un gelato Un hamburger Ma il maggiordomo Le risponde No Mi dispiace Ho ricevuto Ordini Precisi Da tuo padre Britney Scrive Sono tanti Due anni Ah perché Questa cosa Del mangiare Solo pollo E verdure In scatola Va avanti Per due anni Sono tanti Due anni Senza poter Mangiare Quello che vuoi Soprattutto Quando sono Il tuo corpo Il tuo lavoro E la tua anima A guadagnare I soldi Per mantenere Quelli che ti Stanno attorno Due anni A chiedere Patatine fritte E sentirsi Dire di no Lo trovavo Profondamente Umiliante In che senso Sono il tuo corpo Il tuo lavoro E la tua anima A guadagnare Per far Cioè i soldi Per mantenere Quelli che ti Stanno attorno Nel senso che Mentre viene Sottoposta A tutte queste Privazioni Britney Viene comunque Costretta A lavorare Senza sosta Si esibisce In un posto Diverso Ogni settimana Davanti a migliaia Di persone Incide dischi Va in tour I contratti Li firma suo padre Quindi lei non si può Tirare indietro Essendo lui il tutore Della sua persona E del suo patrimonio E ogni singolo Centesimo Che guadagna Appartiene A chi A lei No Che cazzo Al tutore Del suo patrimonio Suo padre Jamie Spears Ci sono delle volte In cui Britney Vorrebbe fermarsi E quindi magari Chiede di poter Fare una pausa Tra un tour E l'altro O tra un allenamento E l'altro Chiede di poter Andare in ferie Ma tutto questo Le viene Sempre Negato Come vi dicevo Ci sono dei contratti Di lavoro Che suo padre Firma con l'agenzia Per lei E se lei Non li rispetta Son cazzo Quanto meno Questo è ciò Che le viene risposto Dai sui dipendenti Quando lei Chiede una pausa Le sventola Lei dice Mi sventolavano I contratti Davanti la faccia E mi dicevano Se non mantieni La parola Ti mandiamo in tribunale Quindi A lavoro Strong Work Beach E a proposito di beach La maglietta è di pampling Trovate questa E tante altre magliette Su pampling E usando il codice Babilonia Potrete scegliere Un paio di calzini Gratis Come Questi Ma torniamo a noi Ragazzi che non c'è tempo Ci sono ancora troppe cose Da dire No scusate Non ce la faccio Bisogna di fare una pausa C'è ancora troppa roba Ci vediamo domani Britney sente come se Il suo corpo Non le appartenga più E di fatto È proprio così Cioè in realtà Niente di ciò che è suo A questo punto Le appartiene più Il suo corpo I suoi figli La sua carriera La sua casa Niente Per dirne una Ragazzi in casa Britney aveva uno studio E nel suo studio C'era una ciotola In questa ciotola Britney teneva Gli scontrini Ma Un giorno A questo punto Succede qualcosa Di agghiacciante Che purtroppo Le fa capire molto bene In quale situazione Del cavolo sia finita Sentite Cosa scrive Britney Ogni settimana Facevo il conto Delle spese Per vedere Quali potevo detrarre Dal fisco Per me Quella ciotola Di scontrini Era la prova Che ero ancora In grado Di gestire I miei affari Conoscevo musicisti Che si facevano Di erumina Facevano appugne E lanciavano Televisori Dalle finestre Degli alberghi Non solo Non rubavo nulla Non facevo del male A nessuno E non mi drogavo Ma tenevo da parte Gli scontrini Per le detrazioni Fiscali Ora non più Mio padre Spostò la ciotola Con le ricevute Per sistemare Le sue cose Sul bancone Disse Sappi che adesso Sono io Che decido Mettiti seduta Su quella sedia Ora ti dirò Che cosa succede Adesso Britney Spears Sono io Da questa situazione Del cavolo Britney Non ha neanche modo Di uscirsene O meglio Potrebbe nominare Un nuovo avvocato E denunciare suo padre Per abuso di tutela Ma lei Questo Non lo sa Perché le dicono Tutti che non lo può fare E non ha modo Di scoprire la verità Dal momento che Manco può navigare Liberamente su google E neanche può Chattare liberamente Con la gente Senza essere monitorata Dal padre Questo perché Ragazzi Come scrive Britney Mi installarono Dei filtri Per la navigazione Sull'iPhone Come quelli Per i bambini Tutto era Monitorato E controllato Tutto E d'altro canto Nemmeno di persona Qualcuno Poteva Poteva Aiutarla Poteva Offrirle Assistenza Poteva Metterla In guardia Dal momento Che suo padre Fin dall'inizio Della tutela Ha subito Creato Un ambiente Ostile Intorno a lei Allontanando i suoi amici Per esempio Ogni volta che Britney Doveva uscire Con qualcuno Su disposizione Del padre Di Britney La sicurezza Faceva firmare A questo qualcuno Un accordo Di non divulgazione Questo mi ricorda Kanye e Bianca E cosa peggiore La faceva sottoporre Agli esami Del sangue Cioè Non Britney La persona con cui Usciva Britney Doveva fare Gli esami del sangue Cioè Praticamente Per essere amico Di Britney Come minimo Non dovevi avere Paura degli aghi E qui Già ti sei giocato Metà della La popolazione mondiale Poi Quando Britney Andava a una festa Prima entrava La sicurezza Ispezionava tutto Per assicurarsi Che non ci fossero Né alcolici Né droghe E qui Già ti sei giocato Altri potenziali amici Perché tra i pochi Che sono rimasti Che non hanno paura Degli aghi Comunque Scrive Britney Gli altri ospiti Erano tutti Molto comprensivi Al riguardo Ma io sapevo Che la vera festa Cominciava solo Nel momento In cui Me ne andavo La tristezza L'amaro La mestizia E qualora Disgraziatamente Britney Conosceva Un bel manzo E decideva Di uscire Con lui L'assistente L'assistente Di Lou Taylor Ovvero Robin Prima del primo Appuntamento Parlava Con Il bel manzo E lo informava Della storia Medica Di Britney Perché Perché Io non me lo riesco A spiegare Anzi L'unico modo In cui me lo riesco A spiegare In cui riesco A dare una spiegazione A tutto questo È che volessero Privare di romanticismo Qualunque interazione Che Britney Aveva con un uomo Cioè con un possibile Spasimante Scoraggiando Tutti gli uomini Dall'innamorarsi Di lei E infatti Britney Scrive nel suo libro Era tutto estremamente Umiliante E sono sicura Che la follia Di questo sistema Mi abbia impedito Non solo Di innamorarmi Ma anche soltanto Di trovare un po' Di compagnia Di passare una serata Divertente O di fare nuove Amicizie Cioè era come Se Britney Esistesse solo Per lavorare E per fare fare Soldi a suo padre Alla sua gente E al suo avvocato E a chiunque altro Tirasse i fili Di questa folle tutela Infatti Scrive Britney Sembrava che ogni richiesta Dovesse passare Attraverso mio padre E Robin Erano loro a decidere Dove potevo andare E in compagnia di chi Gli addetti Alla sicurezza Mi recapitavano Buste di farmaci Già dosati E controllavano Che li prendessi Correttamente Andavo a dormire Presto E poi mi svegliavo E tornavo a fare Quello che mi dicevano E il giorno dopo Ancora E poi ancora L'ho fatto Per 13 anni A questo punto Vi starete chiedendo Chi gliel'ha fatto fare A Britney Perché Britney Non scappava Perché non si ribellava In qualche modo A questo sistema Per esempio Rifiutando di esibirsi La risposta è che Britney Aveva un punto debole I suoi figli E questo punto debole Veniva sfruttato Nel più crudele Dei modi Vi riporto Le sue parole Se vi state domandando Perché l'ho fatto Sappiate Che avevo Un'ottima ragione L'ho fatto Per i miei figli Siccome seguivo Le loro regole Mi permisero Di rivedere I miei bambini Per vederli Il più possibile Feci tutto quanto Era il mio potere Per assecondare Kevin Pagavo le sue spese legali Gli alimenti Per i figli E migliaia Di dollari al mese Perché i bambini Potessero raggiungermi Durante il tour Di Circus C'è un solo modo In cui Britney Può sopportare Questa vita di merda Ed è annullarsi Annullarsi E vivere una ribellione Nella sua testa La ribellione silenziosa Di Britney Consiste Nel non ballare E non cantare Più bene Come un tempo Cioè lei Non ci mette Trasporto Praticamente Britney diventa Un robot Balla in modo meccanico E soprattutto Si sforza Di non muovere I capelli Attenzione a questo Interessante particolare Perché tutti volevano Che lei agitasse I capelli Che talvolta Non erano neanche I suoi Erano delle parrucche Britney nel suo libro Ci invita a notare Che quando una cantante Donna agita i capelli La gente pensa Che si stia divertendo Sul palco Quindi Di conseguenza Lei sul palco Stava ben attenta A non farlo A non muovere i capelli È una cosa Che potrebbe sembrare Piccola Insignificante Ma per lei Era tutto quello Che le restava Era l'ultima Briciola Di autodeterminazione Che le rimaneva Britney Britney si spegne Si aliena E lo fa come Un silenzioso Atto di ribellione Verso suo padre Nel suo libro Scrive Mi hai fatto legare A una barella Ora mi costringe A lavorare per te Lo farò Ma col cavolo Che ci metterò Il cuore Diventai Un robot Ora Ragazzi In diversi In diversi momenti Del libro Britney fa riferimento Allo stato Di annullamento E alienazione In cui si Impostava Diciamo Quando doveva Lavorare Ad esempio Scrive Andavo Andavo in palestra E mi sentivo Alienata Con quell'allenatore Che mi diceva Cosa fare Con il mio corpo Mi sentivo Spenta Spaventata Oppure Qui scrive Diventai Più Una specie Di entità Che una persona Vera Sul palco E ancora Per 13 anni Mi sono sentita All'ombra Di me stessa Queste parole Mi hanno Angosciata Perché Questo spegnimento È un meccanismo Di difesa Molto comune È molto potente Che mette In atto Di solito Chi vive un abuso Chi vive un trauma Uno stress Emotivamente Ingestibile Dal quale Non può scappare Praticamente Mentre si subisce Un abuso Ci si forza A pensare Non sono qui Non sono qui Non sono qui Si tenta disperatamente Di spegnersi In modo che Il tempo passi E l'evento traumatico Si consumi Senza che noi Siamo mentalmente Li presenti Mentre avviene È un meccanismo Di difesa Talmente potente Che nel lungo termine Può comportare Gravi conseguenze Sulla personalità E persino Ragazzi Pensieri Sui c***i Perché Si trova La soluzione Al dolore Proprio Nello Spegnimento Brittany Durante la conservatorship Si trova in una situazione In cui tutto il suo corpo Si sente in pericolo E lei vorrebbe scappare Con ogni fibra del suo corpo Da questo pericolo E questo è un problema È un problema sia per il corpo Che per la mente Perché Brittany è un animale Come tutti noi E quindi in quanto tale È cablata Come ogni creatura vivente Per reagire alle minacce Attivando il programma Lotta o fuga Cioè È un programma Tipo i programmi Della lavatrice Non so se avete presente Ecco Noi abbiamo nel cervello Il programma Lotta o fuga Tutti gli animali Ne hanno uno È probabilmente Il programma più primordiale Che esiste Nel nostro cervello Ecco Quando si attiva Il programma Lotta o fuga Il cervello rilascia Tutti gli elementi Necessari Al corpo Per affrontare La minaccia Quando ne avvertiamo Una Perché di fronte A una minaccia Un animale O lotta Contro la minaccia Per esempio Contro l'orso O il leone Oppure Fugge Se la dà a gambe Quindi il cervello Appunto Ti dà Dà al corpo Tutte le disposizioni Per ottimizzare La lotta O la fuga Il cuore Per esempio Batte più velocemente Per pompare più sangue E fare arrivare più ossigeno Ai muscoli delle braccia Potenziando così La capacità Di pigliare Appugni L'aggressore Nonché ai muscoli Delle gambe Consentendo Una rapida fuga Dal pericolo Qualora la si preferisca Come soluzione Di conseguenza Arriva meno ossigeno E meno sangue Ad altre Parti del corpo Per esempio Il sistema digestivo Rallenta Dal momento Che Il sangue È impegnato In un'altra Conversazione E poi succedono Altre cose del genere Per esempio Aumenta la glicemia Per fornire Un aumento Di energia Ai muscoli Sempre per gli stessi motivi No? Lottare O fuggire Il cervello Rilascia Una bella dose Di adrenalina A cui mi confondo Sempre Non mi ricordo Se la rilascia Il cervello L'adrenalina L'adrenalina È di vivere Di vivere una vita Dalla quale Il corpo Vuole costantemente Fuggire Perché avverte Costantemente Il pericolo Bene Il corpo Rimane Settato Sulla modalità Lotta O fuga E sono problemi Cioè Si scassa Perché il rilascio Cronico E prolungato Di adrenalina Può portare Per esempio A uno squilibrio Nella produzione Di altri Neurotrasmettitori Per esempio La serotonina E se si abbassa Il livello Di serotonina È subito Ansia È subito Depressione Poi L'ossigeno E il sangue Costantemente Concentrati Nei muscoli Necessari Per combattere O fuggire Tolgono risorse Ad altre parti Del corpo Per esempio Come dicevamo Prima Lo stomaco O il cervello Quindi Questo programma Lotta o fuga Per assurdo Se diventa Se Cioè Se resta Settato In modo Costante Cronico Può Influire Sul corretto Funzionamento Del cervello A livello Neurochimico Britney Spears È nella merda Se questa Conservatorship Dovesse andare Avanti a lungo In questo modo Non ne uscirà Sana di mente E questo va Totalmente Contro Il concetto stesso Di conservatorship Che dovrebbe essere Una cosa Concepita Proprio per Aiutare Chi ha un problema Mentale A stare meglio A uscire Dal suo problema Mentale Non per peggiorare La sua situazione Ma andiamo Alla bomba Numero 4 Dov'è la mamma Di Britney Mentre suo padre Schiavizza La figlia Non ci crederete mai Immaginate questa situazione Vostra figlia Dopo aver affrontato Un divorzio doloroso E avere perso L'affidamento Di due bambini piccoli Viene paparazzata Mentre si rade la testa Per la disperazione Poi incredibilmente Viene giudicata Incapace di gestire La propria vita Incapace di intendere Di volere E se la portano Via da casa vostra Gli elicotteri Già questo Potrebbe Mettervi In uno stato Di apprezzione Forse Ora Immaginate che il tribunale Decida di assegnare Il ruolo di tutore Di vostra figlia All'altro genitore Quindi non a voi All'altro genitore Genitore 2 Questo genitore Anziché aiutare Vostra figlia A rimettersi In piedi La costringe A fare Centinaia di tour Incassando Tutti i suoi guadagni Come la vivreste voi Una situazione del genere Da mamme O da genitori Uno Insomma Quali sarebbero Le vostre reazioni Se potete Legalmente rispondere A questa domanda No perché La mamma di Britney Pubblica un libro Ah e che libro Non ve lo sto a spiegare Perché la mamma di Britney In questo libro Spiega che Sua figlia Abbia iniziato a bere A 13 anni Perso la virginità A 14 anni E abbia iniziato A drogarsi A 15 anni Quindi comunque Un libro documentario Di cui il mondo Aveva urgentemente bisogno In woman in me Britney Tocca anche questo Tasto per lei Molto delicato Molto doloroso E scrive Stavo passando Uno dei momenti Più bui della mia vita Ed ecco mia madre Che rivolgendosi Al pubblico Diceva Oh sì E poi c'è anche Britney E a quel punto In genere Facevano passare Sullo schermo Immagini dove Comparivo con i capelli Rapati a zero Il libro andò benissimo E io ne pagai le conseguenze Il tempismo di mia madre Fu davvero incredibile Io ero ricoverata In ospedale Fuori di me Perché mi impedivano Di vedere i miei figli Per settimane E lei faceva Ospitate in televisione Per vendere il suo libro Mi stava sfruttando Per fare soldi Tra l'altro la mamma di Britney A detta sua Cioè a detta di Britney Dopo che sua figlia Si era arrasata ai capelli Aveva reagito con orrore E aveva iniziato a Evitarla E a trattarla Come una pestata Cito testualmente Britney Non mi guardava nemmeno Perché ero troppo brutta A questo punto Britney Giunge a questa riflessione Che voglio leggervi Prima di commentarla Ero disposta Ad ammettere Che Vittima di quella Che ora Su essere una grave Depressione postparto Abbandonata da mio marito E separata Dai miei bambini Colpita dal lutto Per la mia adorata Zia Sandra Perché in tutto ciò Lei era pure morta la zia E assillata Dalla martellante invadenza Dei paparazzi Sotto molti aspetti Avevo davvero iniziato A ragionare come una bambina Eppure Ripensando ora Alle cose peggiori Che ho fatto in quel periodo Il momento più buio Della mia vita Non credo che raggiungano Un livello di crudeltà Pari a quella Mostrata da mia madre Scrivendo e promuovendo Quel libro Nemmeno considerandole Tutte assieme Ecco Volevo farvi notare Una cosa A tal proposito A proposito di Questo passaggio Vedete la differenza Tra la retorica di Britney E per esempio Quella di sua sorella Jamie Lynn Britney mette sempre Sul tavolo della discussione I propri errori Cerca di comprendere Le possibili motivazioni Dell'altro Cosa ho fatto io Per scatenare L'antipatia Di chi mi circondava Cosa ho fatto Quali sono stati I miei comportamenti Che hanno portato Gli altri a pensare Che io Non fossi in grado Di intendere Di volere E risponde Ragionavo come una bambina Cerca di psicanalizzarsi E di capire perché Si comportasse in questo modo Ovvero Aveva la depressione postpartum Era stata abbandonata Dal marito Lei era morta la zia Le avevano tolto I bambini Eccetera Eccetera I paparazzi Eccetera Eccetera E al netto Dei propri errori E delle proprie Imperfezioni Giunge alla conclusione Senza pretendere Però che il suo punto di vista Sia universale Di avere subito Delle ingiustizie Una retorica Molto diversa Da quella di sua sorella Jamie Lynn Che nel suo libro Scriveva tipo Mia sorella era pazza Io ero perfetta Noi eravamo tutti bravi E voi non potete capire Perché mia sorella era pazza Ma andiamo alla bomba Numero 5 Gli integratori Qui scendiamo A livello Della barzelletta A un certo punto Britney si innamora Di un produttore televisivo Di nome Charlie Ebersole Una persona che lei descrive Come sana Con una bella famiglia unita Che la sprona A prendersi cura di sé E soprattutto Ad assumere integratori Che le diano energia Perché Britney A questo punto A furia di mangiare Solo pollo insalatine Cioè stava diventando moscia Aveva più capelli Che vitamine E quindi Britney Prende questi integratori E si rimette in forma Suo padre Se ne accorge E la cosa Non gli piace per niente Così comincia a lamentarsi Del fatto che Britney Sia dipendente Dagli integratori Non solo Le impone Di non assumerli più E la manda In una clinica Di Malibu Per disintossicarsi Dagli integratori Ora Per carità Cioè Si può essere Dipendenti da tutto Nella vita Su Real Time Una volta Ho visto una tizia Che era dipendente Dalle punture d'ape Non so come stia oggi Comunque Lungi da me Dire che non si possa Essere dipendenti Dagli integratori Però Voglio dire Jamie Evita Cioè Ci sono colleghi Di tua figlia Che vivono una vita A base di Sesso droga Rock and roll Cosa vuoi che sia Una vita a base Di potassio Apprezzala O quantomeno Tollerala Cioè Cosa c'è Ti preoccupi Che tua figlia Possa andare in overdose Da integratori E invece Le carenze nutrizionali Che derivano Da un'alimentazione A base di aria Bollita Non ti preoccupavano Per niente Poi vabbè In un primo momento Leggendo questo libro Ho anche pensato Ma può essere Che Britney Mente Cioè Magari non si trattava Di integratori Ma di droga pesanti Però poi mi sono risposta No Non può essere Perché se Britney Ha già ammesso Che anni prima Fosse dipendente Dall'adderal Ovvero la prima volta In cui è andata In riabilitazione Cosa che non era Mai venuta fuori Prima no Perché si diceva Che avessero trovato In lei tracce Di sostanze Ma non Non era mai stato Specificato quali Se fossero droga Quindi in realtà Non si sapeva Questa cosa Che lei assumesse Adderal Quindi perché Dovrebbe farsi problemi Ad ammettere Che in seguito C'era ricascata O stava assumendo Altre sostanze Io ragazzi Personalmente Le credo Quando dice Che assumeva Solo integratori Non so voi Comunque Britney Dice Andare in un centro Di recupero Significava Non poter Vedere I miei figli Per un mese intero A maggior ragione Jamie Potevi evitare E ovviamente Per Britney Andare in clinica Significa anche Allontanarsi Da Charlie Il suo nuovo fidanzato E penso che Questo sia Il vero motivo Che ha spinto Suo padre A internarla Diciamolo Altro che potassio Voleva mettere Un muro Tra sua figlia E il nuovo fidanzato Che rischiava Di darle una svegliata E farle rendere conto Di quanto sia importante Amarsi Una volta tornata a casa Dalla clinica Di Malibu Britney Ricomincia a prendere Di nascosto Gli integratori Suo padre Lo scopre E la manda Agli alcolisti Anonimi Tra l'altro Agli incontri Degli alcolisti Anonimi Lei va Tra un concerto E l'altro Jamie Glielo impone Cioè Non ha scampo E questa cosa Priva Britney Dell'unico tempo libero Che avrebbe Non solo per riposarsi Ma per Per stare con i suoi figli Anche qui Rasentiamo l'assurdo Comunque Cioè Ma ci pensate Un alcolista Che manda la figlia Agli alcolisti Anonimi Perché assume Gli integratori In quale universo Parallelo è finita Britney Spears In tutto ciò Tra un ricovero E una seduta Agli alcolisti Anonimi Britney Non può fare a meno Di confrontare Il proprio percorso A quello dei suoi colleghi Maschi Cioè Le basta accendere La tv Dal lettino Della sua clinica Per vedere Cantanti Che fumano Non solo in privato Ma addirittura Nei loro videoclip Musicali Quindi Lei deve nascondersi Per prendere un integratore Ma gli uomini Al contrario Ostentano Il fatto Di fare uso Di sostanze E in cambio Ricevono approvazione Non vengono Internati Britney È costretta A rispettare Una severa tabella Di marcia Ma vede Che contemporaneamente I cantanti maschi Al contrario Adottano di proposito Atteggiamenti Da cafoni Ad esempio Presentandosi In ritardo Alle premiazioni Atteggiamento Che per assurdo Sembra esercitare Fascino Sul pubblico Come se questo Li rendesse Più artisti Più VIP Di fronte a tutto ciò Britney Non può fare a meno Di percepire Quanto sia Profondamente Misogino L'ambiente In cui È costretta A lavorare La dissonanza Tra le aspettative Altissime Che lei Deve soddisfare In quanto donna E le tante libertà Concesse ai suoi colleghi In quanto uomini Le diventa Sempre più evidente E le dà Sempre più fastidio È cova rancore È cova rancore Non solo verso suo padre Ma a questo punto Anche verso lo stato Che sta Permettendo Questo abuso Nei suoi confronti Infatti Scrive Britney Quando mio padre Mi diceva Che non potevo Avere il dolce Mi sembrava Che non fosse Soltanto lui A dirmelo Ma anche Tutta la mia famiglia È il mio stesso stato Come se non mi fosse Legalmente permesso Perché lui Aveva deciso Così A questo punto Inizia tutta la fase In cui Britney Piano piano Si rompe le balle E comincia a fare Richieste Al proprio team Cerca di fare valere Le proprie idee Sul luogo di lavoro Ma Scrive Britney Tutto ciò che sentivo Era No Mi sarebbe piaciuto Credo che sia un errore Di traduzione Mi sarebbe piaciuto Restare nello studio Di registrazione Per ore A remixare I miei pezzi Con un tecnico Del suono Ma mi dissero Che non si poteva fare Per via della durata Dello spettacolo Io gli risposi Di cambiarla Ma loro mi dicevano Sempre di no Quando insistetti Mi dissero Che al massimo Avrebbero messo Una delle mie nuove canzoni In sottofondo Mentre mi cambiavo Me lo dissero Come se con questa concessione Mi stessero facendo Chissà quale favore Era imbarazzante Perché conosco Questo mondo Sapevo benissimo Che era possibile Cambiare la scaletta Solo che il responsabile Era mio padre E per lui Non era una priorità Cantare versioni Così vecchie Delle mie canzoni Mi faceva sentire Fisicamente vecchia Volevo suoni nuovi Coreografie nuove Adesso penso Che fossero spaventati Dall'eventualità Che tornassi A essere Una star Indipendente Anziché controllata Da mio padre E andiamo Alla bomba Numero 6 La clinica Degli orrori Perché tra le varie Richieste che fa Britney a una certa Chiede di poter andare In ferie Ma le viene imposto Di continuare il tour Ancora e ancora Così per la prima volta Britney si ribella Si presenta Al primo spettacolo Della nuova stagione Dello show Di las vegas Saluta il pubblico E invece di esibirsi Se ne va Passando in mezzo Al pubblico E lasciando tutti Di sasso Nei giorni seguenti Durante le prove Si rifiuta di fare Una sequenza di passi Secondo lei Troppo complessa E niente A questo punto Tutto il team Si riunisce Dentro una stanza Lasciandola fuori E dopodiché Britney viene mandata In rehab Di tutto questo passaggio Abbiamo parlato In modo molto più dettagliato In questo video Agli occhi del pubblico Britney Spears Sparisce Nessuno sa dove sia Ed è in woman in me Che per la prima volta Possiamo scoprire Cosa le sia successo Veramente Dentro le mura Della clinica psichiatrica Questa esperienza In clinica Per lei È distruttiva Che cosa succede In clinica Ragazzi Britney viene sottoposta Forzatamente Al litio E questo aspetto È particolarmente Aghiacciante Non tanto per Il litio In sé Ma per il fatto Che suo padre Jamie Spears Sembri Sta ripetendo Uno schema Che ha colpito La sua stessa famiglia Quando lui era piccolo Facciamo un passo indietro Jamie Spears Quando era ancora un bambino Visse la tragica perdita Di un fratello Appena nato Il figlio Dei suoi genitori Che morì Dopo soli tre giorni Di vita Di fronte al dolore Della madre Suo padre Decise di relegarla In una clinica Psichiatrica E sottoporla A una terapia A base di litio Questo Ricovero forzato Si concluse Otto anni dopo Con il suo figlio Della madre Di Jamie Che si sparò Con un fucile Sopra la tomba Del figlio Neonato Jamie All'epoca Aveva solamente 13 anni Ma non finisce qui Perché successivamente Suo padre Si risposò E ripetè Lo stesso schema Portando la nuova moglie Nella stessa Clinica psichiatrica E facendola Sottoporre Alla terapia Con il litio Forzatamente Il fatto che Jamie Spears Da adulto Stia ora Applicando Lo stesso tipo Di trattamento A sua figlia Brittany Per motivi Legati al controllo Del suo denaro È lugubre E Brittany Ragazzi Mentre si trova In clinica E viene forzata Ad assumere il litio Che tra l'altro Le dà anche Dei pesanti effetti Collaterali È consapevole Di questa situazione Cioè Brittany Lo conosce Il passato Di suo padre Lo sa Che cosa Cioè Che questa stessa Situazione Ha portato Sua madre Al suo iscio Sua nonna Al suo iscio Al che a questo punto Brittany pensa Ok raga Mio padre Mi vuole fare fuori Definitivo Peraltro Il trattamento Che riceve in clinica Per lei È inspiegabile Perché nonostante Brittany Non abbia commesso Alcun reato E sia una persona Tranquilla Docile Mansueta Comunque Viene trattata Come se fosse Una serial killer Vi leggo cosa Racconta lei I miei addetti Alla sicurezza Che conoscevo Da anni Si comportavano Come se fossi Una criminale Quando dovevano Prelevarmi il sangue L'addetto Era affiancato Da un'infermiera Da una guardia Di sicurezza E dalla mia assistente Ero forse Una cannile Una rapinatrice Di banche Un animale feroce Perché mi trattavano Come se volessi Bruciare quel posto E ammazzare tutti Tutta questa situazione Ragazzi Mi sta ricordando Molto La caccia alle streghe Lo schema è uguale Non mi ricordo Se ho già fatto Quest'osservazione Allora Pensiamoci Come cosa succedeva Durante la caccia alle streghe Prendevi di mira Una donna Ti attaccavi a qualcosa Di banale Che aveva fatto Per esempio Pestare il basilico E attribuivi A quell'atto Un significato Molto più oscuro Satana La stregoneria Nel caso di Brittany È successa la stessa cosa Il gesto banale È stato Il rifiuto Di fare dei passi E il significato Oscuro Attribuito A questo comportamento È stato La pericolosità È una persona Pericolosa Dopodiché Che cosa si faceva Al tempo Della caccia alle streghe Si invocava L'intervento Di un'istituzione Per castigare La strega Facendo finta Però Che si volesse Fare il suo bene Ricondurla Sulla retta via Quando invece La si voleva Solo punire Appunto Per aver preso Una decisione Con la propria testa L'istituzione Addetta a punire La strega Ovvero L'inquisizione La trattava Come una criminale Pericolosa Quando lei Voleva solo Fare la pasta Col pesto Allo stesso modo I medici E la sicurezza Di Brittany La trattano Come se fosse Una squilibrata Fuori controllo Quando lei Voleva solo Rallentare Farsi una vacanza E ballare di meno Comunque Gli orrori Della clinica Purtroppo Non si fermano Qui Brittany Racconta Che era Costretta A rimanere Seduta Per lunghi Periodi Durante la giornata E che questa cosa La facesse Impazzire Lei dice Io sono una ballerina Quindi sentivo Il bisogno Viscerale Di muovermi Questa privazione Mi tormentava Ma io aggiungo Che ci poteva essere Anche un altro motivo Per cui Costringerla A stare seduta Poteva essere Veramente Una tortura Infatti Come dicevamo Prima Lo stress Derivante Da una situazione Dalla quale Vuoi scappare E da una clinica In cui ti trattano Così Probabilmente Vuoi scappare Ecco Questo tipo Di stress Fa affluire Sangue Agli arti Alle gambe E quindi Scappare Diventa praticamente Un bisogno fisico Muoversi molto Diventa un bisogno fisico Di conseguenza È innaturale Rimanere seduti È una tortura fisica Non a caso Scrive Britney Sentivo l'ansia Nelle gambe Nel cuore Nel cervello Non riuscivo mai A scaricare Quell'energia E questo spiega Perché oggi Britney Sia tanto Iperattiva Così Ancora una volta Anche nella clinica Degli orrori Britney Si annulla Si aliena Si estranea Dal proprio corpo Oggi scrive Doveva esserci qualcosa Di più grande A sostenermi Perché quello Che stavo vivendo Era troppo Da sopportare Da sola Quando ripenso A come sono Sopravvissuta Mi dico Non sono stata io È stato Dio Ecco In tutto ciò Britney Sa benissimo Che suo padre Potrebbe interrompere Questo ricovero Quando vuole E quindi Lei lo supplica Di farlo Si umilia A tal punto Ma lui le risponde Sempre di no Le dice Adesso ci devono pensare I medici A te E lei ancora di più Si convince che Lui voglia farla Eliminare fisicamente Allora Britney Scrive a sua sorella Jamie Lynn E le chiede aiuto Ma Jamie Lynn Le risponde Non puoi farci Non puoi farci niente Quindi smetti Di resistere Britney Chiede aiuto A sua madre Ma anche lei Si avvale Della facoltà Di sbattersi Nel cazzo Cioè Sua madre Le risponde Tipo Non so che dirti Una cosa simile La conservatorship A questo punto Va avanti Da 12 anni E poi finalmente Un giorno Mentre Britney Si trova Nella clinica Degli orrori Un'infermiera Chiama Britney Nel suo ufficio E le mostra Il computer Dove stanno Trasmettendo Una discussione Sulla conservatorship Di Britney Spears Un ospite Indossa Una maglietta Con la scritta Free Britney Praticamente I fan di Britney Si stanno chiedendo Dove sia Lei E stanno Complottando Che il padre Possa stare abusando Della tutela Britney Nel suo libro Esprime Tutta la sua Gratitudine Ai fan Scrivendo Il fatto che I miei amici E i miei fan Abbiano capito Che cosa stava succedendo E si siano fatti In quattro Per me E un debito Che non riuscirò Mai a ripagare Se anche tu Hai preso Le mie parti Quando ne avevo Più bisogno Ti ringrazio Con tutto il cuore E così Andiamo Alla bomba Numero Sette Il risveglio Britney torna a casa Dalla clinica Degli orrori E scopre Quanto la sua famiglia Non le voglia Tanto bene Innanzitutto Nessuno l'abbraccia Cosa che È assurda Infatti Lei scrive La mia famiglia Si presentò A casa mia Come se non fosse Successo nulla Come se non avessi Appena subito Un trauma Quasi insostenibile Ciao bella Come va Mi chiese Jamie Lynn Tutta allegra Britney nei giorni Seguenti Ci prova A far capire Alla sua famiglia Che ha bisogno Di loro Ad esempio Racconta Che un giorno Chiamò sua madre E le disse Ho voglia di vedervi Ma sua madre A detta di Britney Le avrebbe risposto Adesso stiamo Facendo shopping Dobbiamo andare Ci sentiamo dopo Per poi Non richiamarla Al che Britney Sarebbe andata A trovare Lei stessa La sua famiglia Visto che Sua madre Non la richiamava Ed è a questo punto Che avrebbe scoperto Qualcosa di infelice Ovvero Che sua madre Aveva buttato Tutte le sue Bambole Di madame Alexander Che collezionava Da piccola Vedere le mensole Vuote Le provoca Una tristezza Opprimente E questa piccola cosa È la goccia Che fa traboccare Il vaso Perché è davanti Alle mensole vuote Che Britney Capisce di non volere Più avere Niente a che fare Con la propria famiglia Ma attenzione Ragazzi Perché negli ultimi giorni In realtà La mamma di Britney Sta negando L'episodio Cioè praticamente Lynn Ha recentemente Pubblicato Su Instagram Le foto Delle famigerate Bambole Di madame Alexander Scrivendo Britney Non sono sicura Di chi ti abbia detto Che ho buttato Le tue bambole I tuoi diari Ma non farei mai Una cosa del genere Sarebbe crudele Perché so Quanto significano Per te Anche per me Sono speciali In virtù degli anni Che abbiamo trascorso A collezionarle Naturalmente Ho ancora le tue cose E sarei felice Di mandartele Se vuoi Fammi sapere Ti voglio bene Vabbè Comunque sta di fatto Che a questo punto Britney Chiede al tribunale Che suo padre Venga sollevato Dal ruolo di tutore Scopre di poter Nominare Un avvocato Il giudice Va in pensione Subentra finalmente Una nuova giudice E dopo 13 anni E una lunga Battaglia legale Di cui abbiamo parlato In questo capitolo La conservatorship Si conclude Definitivamente Britney scrive Provai Un sollievo Enorme L'uomo Che mi aveva Terrorizzata da bambina E dominata da adulta Che più di chiunque Altro aveva contribuito A minare La mia autostima Non controllava Più La mia vita Oggi Britney Si dice Entusiasta Di poter Mangiare La cioccolata Verso la fine Del libro Britney Ci butta Dentro Una bella Lode A Sam Il suo Nuovo Marito Esam e io Preghiamo Sempre insieme Per me È un modello Di costanza Per come Si allena Per come Riesce A essere Sempre Una brava Persona Per come Cerca Di vivere In modo Sano Per come Si prende Cura di me E mi insegna A prenderci cura L'uno Dell'altra Sposarci È stato Un modo Splendido Per celebrare Tutto quello Che abbiamo Passato Insieme Una testimonianza Di quanto Profondamente Desideriamo La felicità L'uno Dell'altra Ovviamente Britney e Sam Stavano ancora Insieme Mentre lei Scriveva Il libro Cioè Lei Questo libro Lo ha scritto Proprio mentre Era in vacanza Con Sam Se non sbaglio Purtroppo Però come Sappiamo Quando il libro Ormai Era già pronto Sono successe Delle cose Infatti lo stesso giorno In cui il libro Esce Britney Scrive su Instagram Il volume 2 Verrà pubblicato L'anno prossimo Preparatevi Sam Infatti È messo Che continua A difendere Britney Da tutti gli Attacchi Per esempio Dal figlio Di Trump Che pubblica Meme su Dile Secondo me Sta cercando Disperatamente Di tenersela Buona Conclusioni Britney Ha chiuso Un capitolo Della sua vita Pubblicando Questo libro E ne ha Aperto Uno nuovo Come spesso Accade Alcuni di quelli Che si erano appassionati Alla sua storia Ora forse Ne sono in astinenza Dalla storia di Britney Tanto che Cercano freneticamente Di inventare una trama Per il sequel Della storia di Britney Spears Come se la vita Di Britney Fosse una soppopera E non una tragica Vicenda umana Di cosa sto parlando Allora Sempre più frequentemente Leggo commenti Di persone Che osservano Il comportamento Di Britney Come se fossero Cioè come se Lei fosse Un topo In una teca E dicono Guardate come si comporta È strana Posta foto di nudo Pubblica video In cui balla Senza contegno I coltelli erano veri Non erano finti Anche se la polizia Ha detto che era tutto ok Ma secondo me No È evidente Che abbia bisogno D'aiuto Altrimenti si farà Del male Questo ragazzi È ciò che affermano I commentatori Di tiktok Improvvisandosi Psichiatri Investigatori Eccetera Come se ci fosse Una qualche connessione Logica Tra il modo di ballare E gli istinti Autolesionisti Di Britney Cioè io dico Se una è pericolosa Per gli altri O per se stessa Secondo me Non è che lo possiamo Capire Da Dei balletti O dai suoi News Secondo me A meno che i news Non li invii In DM Ai suoi fan Ma fino ad ora Che si sappia Non è mai successo Niente di simile Quindi La mia opinione è questa Ve la dico E poi vi passo la parola E mi dite la vostra Britney secondo me Non ha veramente Bisogno di una tutela Credo che abbia Dei traumi Credo che la sua sanità mentale Sia gravemente compromessa Ma non credo Che sia pericolosa Per nessuno Le parole conclusive Del libro Mi trasmettono Una sua visione Molto positiva Del suo futuro Britney Sembra uscirne Da tutta questa situazione Come una donna Che desidera Il proprio benessere Lei secondo me Vuole stare bene Ed è orientata Verso questo futuro Verso il lato positivo Il suo livello Di sopportazione Dello stress È salito talmente tanto Negli ultimi 15 anni Da renderla capacissima Di leggere il lato positivo In ogni situazione attuale Come se niente Comunque potesse essere brutto Come quello che ha passato È come se per lei Adesso la priorità Fosse godere appieno Della sua libertà ritrovata Della sua libertà Tanto desiderata Del tempo con i suoi figli Del suo canto Considerate che lei Non canta più Non si esibisce più In pubblico Eppure in casa Canta sempre Ma canta per se stessa Perché lei dice Io voglio godere di me stessa Mi sono annullata Per tutti questi anni Mi sto ritrovando adesso Voglio fare cose per me stessa Per stare bene Anzi mi sono resa conto Di quanto mi faccia stare bene Fare cose solo per me stessa Non per avere l'approvazione Degli altri Ma per me stessa E infatti ragazzi Io credo che Appunto la situazione mentale Di Britney Sia compromessa Ma non credo proprio Che a parlarci Della sua salute mentale Siano i balletti scoordinati Tanto più le sue foto di nudo Anzi io credo che Ballare in modo scoordinato Alla luce della sua storia personale Possa solo essere interpretato Come un atto di ribellione Come una rivendicazione Della sua libertà I suoi passi sono Completamente A caso Ok Balla in modo casuale Ok Non va a tempo E quindi Cioè ricordiamoci Che stiamo parlando Di una persona Che è stata rinchiusa In una clinica degli orrori Solo perché aveva chiesto Di evitare una sequenza Di passi Considerandola troppo complicata Ok Britney si muove In modo troppo lascivo È volgare Si sculaccia da sola E allora Ricordiamoci Che si sforzava Di essere il meno sensuale Possibile sul palco Per ribellarsi Contro lo sfruttamento Del padre Al punto che Il suo unico gesto Di autodeterminazione Era cercare disperatamente Di ballare Senza muovere i capelli Ma in tutto ciò Anche se Il suo comportamento Sui social Dovesse essere Segno di uno squilibrio Mentale Perché dovrebbe Aver bisogno Di un tutore Che le gestisce La vita Ci sono celebrità Ripetiamo sempre Lo stesso discorso Come per esempio Kanye West Che rifiutano Categoricamente Di farsi curare Kanye West Ha un Disturbo bipolare Diagnosticato Ma lui Continua a infliggere Danni Danneggia Chiunque si trovi Intorno a lui Manipola E maltratta le donne Sfrutta i dipendenti Li costringe a subire Situazioni degradanti Come dormire all'aperto Per terra A causa della sua Megalomania Si dichiara nazista Minaccia di morte Un uomo Solo perché esce Con la sua ex moglie Questo e molto altro Nella Kanye West saga Eppure indovinate Non ha una Conservatorship Nessuno gestisce La sua persona Nessuno gestisce Il suo patrimonio Benché lui lo sper Per incessi d'oro E rifugi antiaerei Lasciati incompleti E come lui A Hollywood Esistono migliaia Di esempi di star Che convivono Con problemi Di salute mentale Senza la supervisione Di un tutore Persino quando Questi problemi Le portano Ad assumere Comportamenti Potenzialmente Pericolosi Prendiamo Ezra Miller Che ha un disturbo Da dipendenza Da sostanze Come minimo Ezra Miller È stato Accusato Di adescamento Dei minori Di aver commesso Cioè Di essersi Intrufolato Armato Nelle case Di estranei Di avere Spaccato in testa Una sedia A una signora Dopo essersi Intrufolato Anche in casa su Di avere cercato Di mettere in piedi Una setta Nella sua fattoria Chi è il suo tutore? Lo sapete Chi è il suo tutore? Ezra Miller Armie Hammer Cerca di mangiare Le sue fidanzate Si imbarca In comportamenti Pericolosi Come guidare Tutto l'effetto Di stupefacenti E ne condivide E ne condivide Le prove video Sui social E lo sapete Chi è il suo tutore? Armie Hammer Se Britney Spears Deve sottoporsi A una tutela Perché posta news Su Instagram Per favore Che si metta in fila Dietro Kanye West Ezra Miller Armie Hammer E le altre centinaia Di uomini Che a Hollywood Non fanno altro Che fare casini In cui a rimetterci Sono sempre donne Minori E dipendenti Ma in ogni caso Io a tutte queste persone Non darei alcuna tutela Cioè chiariamoci Questa storia Della conservatorship Per me è assurda Non ne vedrei il senso Se uno commette un reato Deve pagare la pena Per il reato Che ha commesso Non deve essere punito Per avere problemi Di salute mentale Sarebbe una cosa Estremamente discriminatoria Ripeto La tutela La conservatorship È una cosa Che esiste Per chi Non è in grado Manco di andare In bagno Per chi Non ha le capacità Cognitive Di formulare un discorso Di mangiare Di Appunto Di gestirsi Di vivere da solo Senza Morire di Di stenti Quindi Non credo Che Britney Abbia bisogno Di una conservatorship E non credo Neanche Che abbia bisogno Di Di essere punita Per qualche reato A differenza Di molte altre Celebrità Visto Visto che Comportarsi In modo Eccentrico Non è reato Dopo Avervi detto Cosa ne penso io Vi dico Cosa ne pensa Britney Perché nel libro C'è la sua risposta A tutte queste Voci A tutte queste Congetture So che molti Non capiscono Perché mi piaccia Fotografarmi con Abiti nuovi O nuda Ma credo che Se anche loro Fossero stati Fotografati Migliaia di volte Da altre persone Incoraggiati a posare Per ottenere L'approvazione Altrui Allora capirebbero Tutta la gioia Che provo Nel posare In un modo Che mi fa sentire Sexy E nello scattarmi Una foto Mentre faccio Quello che voglio La gente Magari mi prende In giro Perché i miei post Sono ingenui O strani O perché ogni tanto Divento cattiva Quando parlo Delle persone Che mi hanno ferita Forse il mio È stato Un risveglio Femminista Detto ciò Passo e chiudo Fatemi sapere Cosa ne pensate Di tutta questa storia Secondo voi Britney ha raccontato Tutta la verità Nel suo libro Avrà finalmente La sua pace O torneremo Presto a parlare Di lei Ditemi un po' Ragazzi Che io adesso Scendo giù A leggervi Ma non prima Di avere preso Una scatola Di integratori Perché sto morendo Sono letteralmente Due giorni Che registro Non me ne voglia Quindi Jamie Spears Se assumerò Un po' di magnesio Vi ricordo Che se volete Sostenere il canale Potete farlo Offrendomi un caffè Virtuale tramite Link che vi lascio giù Nell'info box Vi mando un abbraccio Ringrazio la casa editrice Longanesi Per avermi Mandato Questo gioiello Sono molto contenta Di essere stata Prescelta Per ricevere Questa Questa copia Spero di Avervi trasmesso Un po' di quello Che questo libro Ha trasmesso a me Detto ciò Ragazzi Ci vediamo prestissimo Con un nuovo video giornale E a voi La linea La linea La linea Tu Grazie.